Siamo sempre qui, presenti, insieme a Danilo. Ciao Dani, benvenuto. Ciao Alessandro, buongiorno a te, buona domenica a tutti i ragazzi che ci seguono da casa. Ho un'altra domenica mattina insieme, che non so se è un bene o un male, Dani, poi qui lo capiremo. Ma è un bene? Perché ci dovrebbe essere? Quanto è bello stare insieme. No, perché ultimamente dicono, ma quando voi fate la colazione finanziaria, i mercati scendono, e allora uno preferirebbe non ascoltarci effettivamente a questo punto, perché se non ci siamo vuol dire che va tutto bene. Anche perché oggi già dal titolo è Parliamo di Cripto e Spatapiem, però dai, perlomeno non siamo premonitori. Noi parliamo su quello che è già crollato, non è che prevediamo il futuro. Esatto. Puntata oggi io direi fondamentale, ragazzi. Contestualizzando con quello che è successo sui mercati questa settimana, impareremo probabilmente la lezione più importante quando si tratta di investire. Quindi oggi ci focalizzeremo un po' su qualche tema specifico, ma sarà veramente una puntata molto, molto importante, perché finché, quando va tutto bene, non ti ascolta mai nessuno. Ma papà, io qua, io di là, io su, io giù. Lo diciamo sempre, quante volte vi abbiamo detto ragazzi, finché guadagnano non gli puoi dire niente, perché finché guadagnano non ti ascolteranno mai la vita. E allora dobbiamo metterci là, prendere insulti, farci prendere in giro per mesi, se non per anni, e poi dopo quando arriva la botta, arriviamo qua. Ecco, allora ragazzi, impariamo la lezione. E' questo. Allora, fateci sapere intanto se ci sentite, se ci vedete, se è tutto ok, se è tutto regolare. Diteci anche da dove, visto che ci siamo, da dove ci stai ascoltando questa mattina, dove siete, vacanza, non vacanza, in città, in campagna, dove siete, diteci le città, diteci un po' di cose. Poi se avete delle domande, ovviamente, fatecele durante la live, che siamo a disposizione. Siamo qui, insomma, ci facciamo questa, diciamo sempre oretta, oretta e mezza, poi se ne va sempre più lungo, però ci facciamo questa colazione, colazione insieme, insieme. Va bene, ragazzi. Allora, Dani, questa settimana, male male, nel senso che tanta gente... Ma l'indaglie è strano, eh? Perché le altre, invece... No, 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 no. Ancora non sto parlando di mercati in generale, che lì poi ci arriveremo. Male male. Male male a livello di quello che è successo, probabilmente l'avete ascoltata, l'avete seguita un po' la vicenda, ne hanno parlato un po' su tutti i social, e ragazzi ditecelo anche lì se l'avete ascoltata e seguita. Praticamente c'è stata una delle principali criptovalute per capitalizzazione, probabilmente era la sesta, la settima, quindi tra le più grandi, che è completamente saltata. Saltata per aria e insieme alla cripto sono spariti... Capitalizzava, non so se forse una trentina di... Vado a memoria, ragazzi, aiutatemi, perché la capitalizzazione è stata polverizzata in un nanosecondo. Trenta miliardi? Dico un numero... C'ho in testa sto trenta miliardi. Comunque, aiutatemi, ditemi se è corretta più o meno. E quindi... Criptovaluta gigantesca proprio. Polverizzata nel giro di poche ore, data zero, zero, zero virgola qualcosa, e insieme alla capitalizzazione della criptovaluta sono stati polverizzati anche gli investimenti di milioni di persone, di persone di tutto il mondo. E ci sono state delle situazioni veramente brutte. Adesso magari andiamo a vedere anche qualche spezzone di discussione sui social, su Reddit. Addirittura hanno aperto un centro Dani di supporto per chi voleva suicidarsi, perché tanta gente ci aveva investito tutto proprio per le caratteristiche. Adesso ne andiamo a parlare, cose ovviamente mai da fare. E saltato tutto quanto si è ritrovato in un attimo senza più niente, con debiti, cose così. Quindi ci sono state migliaia di persone che addirittura volevano suicidarsi, hanno aperto addirittura un centro di supporto per chi voleva suicidarsi. Tante persone hanno provato a suicidarsi, purtroppo tante fortunatamente sono state sono state sono state salvate. Poi non credo che perlomeno che la cronaca abbia raccontato, non c'è stato nessun caso di suicidio che sappiamo noi poi da vedere. E niente, quindi questa qui è una lezione molto molto importante. Dato che il tema è delicato e quindi andrò a parlare un po' di questo, apro e chiudo una parentesi facendo una premessa perché io già lo so perché prima fanno tanto succede sempre così è sempre quello vedo da 15 anni però devo sempre ogni volta dirlo prima che prima cantano io qua io là io guadagno poi quando succede noi facciamo la lezione per dire ragazzi guardate l'ennesima attenzione questo questo quest'altro che vedremo oggi però voi godete dalle disavventure degli altri no non godiamo dalle disavventure degli altri dobbiamo contestualizzare quello che succede prendere un esempio reale e farlo vedere alle persone che hanno voglia di imparare ad investire correttamente se il problema non è godere che è saltata una criptovaluta e milioni di persone hanno perso un sacco di soldi alcuni hanno perso addirittura tutto a me non interessa quello che fanno le persone io devo prendere il fatto e la gravità del fatto con la gravità delle conseguenze che ha portato quel fatto farvelo vedere per sensibilizzare quanto è delicato investire correttamente perché altrimenti a polverizzare i risparmi di una vita quello che avete messo da parte con una vita di sacrifici di duro lavoro di rinunce di qualsiasi cosa ci mettete un attimo a polverizzarlo e una volta che è polverizzato è finita non si ritorna più indietro non si può più tornare indietro quindi dobbiamo battere su questo tema il punto è che mentre va tutto bene è impossibile dire attenzione perché uno dice va bene quello guadagna quell'altro guadagna voi non capite niente che quelli fanno il 20% all'anno voi quanto fate con le azioni con le obbligazioni ecco poi dobbiamo però rimettere sempre i puntini sulle i alla fine perché puntualmente succede nella masterclass per consulenti finanziari io lo dico sempre ragazzi ditecelo se ci seguite se state vedendo la live confermatelo io dico sempre ragazzi eliminate il rischio specifico dei portafogli dei clienti perché sapete già che voi non sapete quando ma ogni anno puntualmente zompa qualche azienda zompa qualche stato zompa qualche criptovaluta e voi dormite sonni tranquilli perché sapete che comunque qualsiasi cosa succede lì fuori i portafogli dei vostri clienti sono a prova di crash di azienda che fallisce o big o problema grande gigantesco che salta che salta fuori e soprattutto sarete lì pronti ad aiutare poi tutte quelle persone che sono state coinvolte in quelle situazioni che altri fenomeni della finanza le hanno cacciate in queste in queste situazioni quindi le lezioni da imparare oggi oggi sono veramente sono veramente tante tra l'altro l'ultima cosa poi Dani ti lancio il primo tema se avete un portafoglio nel vostro portafoglio sono le cripto avete fatto qualche qualche disastro qualche situazione così particolare volete un'analisi Danilo e i consulenti vi analizzano il portafoglio e in maniera gratuita e senza impegno vi fanno vedere quello che va bene quello che non va bene e poi potete scegliere se continuare oppure no quindi fare un ribilanciamento del portafoglio ricostruirlo in maniera più in maniera migliore ed ottimale va bene vi metto il link qui in chat oppure sotto in descrizione ci cliccate potete insomma fare la richiesta dell'analisi Dani io qui ti lancio proprio il tema del rischio specifico ragazzi direci quante volte vi abbiamo detto no rischio specifico no rischio specifico e oggi anzi settimana scorsa è successo proprio quello che nessuno si aspettava Dani dici qualcosa te lo sintetizzo così cioè io definisco spesso il lavoro dal consulente finanziario proprio il primo comando ci sono i due comandamenti no cosa devi fare se io sono consulente finanziario due punti cosa devo fare il primo è eliminare il rischio specifico cioè quindi pensate quanto è importante no che cosa attenzione che cos'è il rischio specifico tra l'altro non so se è già uscito ma uscirà a breve un video proprio sul canale in cui dico le cinque cose principali all'interno di un portafoglio di investimento quindi cosa devo guardare all'interno del mio portafoglio di investimento e indovinate che c'è una delle prime cose rischio specifico che va di pari passo con la diversificazione cioè capite che sono concetti proprio proprio di base no cioè queste cose sono scritte nei libri di finanza quindi non è che lo dice il buon Alessandro Moretti e il buon Danilo Zanni c'è Danilo che parla di diversificazione no 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 non sono io cioè su tutti i più grandi libri di finanza è proprio capitolo 1 diversificazione e attenzione che cos'è il rischio specifico è quando io vado a mettere tutte le mie uova in un paniere quindi vado a mettere tutti i miei bei soldini in un investimento in uno strumento finanziario il cui andamento ok dipende da specifici fattori facciamo un esempio il classico sono stronzo vabbè il classico BTP o la classica Telecom o il classico Bitcoin oggi sono provocatorio che no io ho guadagnato un sacco di soldi va bene va bene ma magari ti è anche andata bene ok però il problema è che il tuo investimento è legato a un qualcosa ho fatto tre esempi poco diversi un'obbligazione un'azione il Bitcoin non mi interessa che cos'è ok non mi interessa che può anche essere il titolo di stato della eravamo settimi adesso ottavi no decima economia al mondo cioè voglio dire ok perché perché il BTP o Telecom sono in un paese in un'area geografica determinata hanno delle certe hanno delle leggi delle leggi di un certo tipo sono in uno specifico settore quindi magari c'è qualche competitor ok anche il Bitcoin domani nasce un algoritmo del Bitcoin 2.0 migliorato il Bitcoin che inizia a scendere cioè adesso sono sintetiche ovviamente banalizzo però questo è il rischio specifico e vi faccio sempre anche l'esempio quando arriva qualche investitore analisi del portafoglio guarda Danilo io vi seguo da una vita infatti hai visto che non ho messo ho fatto un po' di azioni ma diversificate ho comprato Unicredit Intesa Banco BPM Monte dei Paschi e li aridaglie no perdonami non sei diversificato hai cambiato azione ma sono tutte azioni italiane sono tutte azioni dello stesso settore bancario sono tutte azioni che subiscono particolari andamenti di caratteristiche economiche come l'andamento dei tassi o lo spread o cioè tutti i fattori che se mi cambiano quei due o tre fattori tutti i miei titoli scendono perché? perché hanno tutti lo stesso rischio specifico ok sì sto cambiando che cosa in quel caso il rischio del management aziendale ok sì ho intesa c'è un amministratore delegato Unicredit un altro quindi vabbè un consiglio di amministrazione diverso per carità va bene però tutto il resto siamo uguali e questa cosa ragazzi voi lo sapete a noi piacciono piacciono i numeri cioè se diciamo una cosa non è perché ce la siamo sognata di notte o l'abbiamo letta sì magari l'abbiamo letta ma il buon Alessandro se legge una cosa dice sai che c'è? fammela andare a vedere fammela andare non la prende per vera ok tendenzialmente anche io abbiamo questo non lo so difetto o pregio chiamatelo come volete però abbiamo questo tardo nella testa che se leggo una cosa dico ma perché così difficilmente prendiamo qualcosa per vero e quando parliamo di rischio specifico ovvero diversificazione cosa ci porta la diversificazione? la diversificazione ci porta un controllo del rischio ma soprattutto ci dice questo lo sai che se tu hai rischio specifico quindi compri uno strumento finanziario tu tendenzialmente hai un adesso è un discorso un po' filosofico però è secondo me importante cioè se tu compri uno strumento finanziario hai un rendimento atteso con un certo grado di rischio ok con una certa volatilità rendimento rischio e questo è una sono le fondamenta queste ragazzi quando diciamo relazione rischio rendimento non è è massivo no cioè è matematica lo so che sembra ma è matematica quindi io compro uno strumento finanziario che ha un rendimento atteso con una certa volatilità diversificare quindi se tu vai adesso non voglio essere troppo tecnico però ottimizzazione matrice media varianza voglio vedere dove è infognante vai dai cerco di essere semplice cioè il tema è strumento finanziario singolo rischio specifico ho un certo rendimento atteso con una volatilità andare a diversificare ok mi permette a parità di rendimento atteso di avere una volatilità più bassa oppure a parità di volatilità avere un portafoglio che mi rende mediamente di più è questo gioco qua anche anche lì intanto ringrazio Giancarlo che ha fatto l'esempio più bello della della storia adesso questo me lo prendo me lo rivendo subito Giancarlo non ti do i diritti le fragole sono buone ma se mangi solo fragole muori esatto ma anche lì Dani a livello di di proprio di diversificazione oltre al rendimento atteso anche se mi dicessero guarda se diversifichi si riduce il rendimento atteso tu preferiresti diversificare tutta la vita nel senso che tutti i clienti dell'SCF noi compresi abbiamo a livello a livello di azionario tutto l'azionario globale super diversificato eccetera mercato scende Nasdaq perde il 30 dopo lo vedremo vedremo un po' di cose l'azionario globale scende di meno perde l'8 e il 9 ci stanno tantissime aziende che soprattutto quelle quelle tech come non so Spotify piuttosto che Peloton Coinbase tutte che hanno perso oltre il 70 80 90% gli investitori che galleggiavano facevano i galletti adesso volevo dirla al contrario facevano i galletti dicendo ah così io guadagno più di voi che diversificate eccetera eccetera che stanno affogati a meno 80 e adesso che faccio incremento non incremento le vendo cambio approccio recupereranno mai ma se non recuperano perché vengono mille milla dubbi se l'azienda non so un Peloton che non fa non mi ricordo adesso vado a memoria che non fa mezzo euro di utile sta a meno 80 anche Tiscali è stata è stata per 20 anni a meno 99% è continuata a perdere non è mai non è mai tornata ai livelli ai livelli del 2000 quindi ti vengono tantissimi dubbi e inizia inizia a preoccuparti e vi posso garantire che uno non dorme sereno dall'altra parte in maniera super diversificata quando hai tutte le aziende più grandi del mondo diversificate in tutto il mondo io ragazzi dormo no sereno qualcosa di più neanche lo ha neanche l'apro la piattaforma dove ho gli etf sto serenissimo così come Danilo così come i clienti dell'SCF magari fanno al massimo faranno qualche telefonata i consulenti dicano tutto a posto incrementiamo al massimo ma di vendere proprio non gli viene neanche lontanamente perché sai di avere comunque tutte le aziende del mondo sai che quell'etf quel tuo investimento andrebbe a zero solo se l'economia globale andrebbe a zero e se l'economia globale andrebbe a zero i nostri investimenti sarebbero veramente gli ultimi dei nostri dei nostri problemi perché lì fuori sarebbero i dinosauri che bussano alla fine con gli alieni che ti bussano alla finestra dicono che facciamo ok quindi è quello il grande beneficio della diversificazione sai che se dentro c'hai dentro al tuo investimento c'è la Peloton che dove c'hai investito lo 0,3% di tutto il patrimonio va a zero ma va bene perdi lo 0,3% ma magari sei compensato dall'altra azienda energetica che ha fatto il 150% perché tanti magari dicono che facciamo è il momento di comprare Peloton ma tu ce l'hai l'azione aereo globale? sì e allora Peloton non c'è nell'azione aereo globale credo però e allora ma già ce l'hai nell'azione aereo globale dentro quell'etf che non è un numero che si muove e basta sta già lì dentro perché ne vuoi di più ok questo è proprio il messaggio importante della diversificazione ti elimini completamente il rischio che se vecchi l'azienda marcia o l'investimento o l'investimento marcio tu comunque nel lungo termine ne vieni fuori sei agganciato all'economia reale cioè sta investendo in aziende che producono producono ricchezza risolvono i problemi delle persone e fanno stanno lì per fare utili poi oscillano perché oscilla perché il mercato oscilla avete mai visto una linea retta che sale io sì ho visto la linea retta che sale era il il fondo di Bernie Madoff che però purtroppo dopo vent'anni era una bella linea retta cresceva dell'8% all'anno secco fisso però era una truffa era cioè erano veri quei valori infatti anche lì per prenderti l'8% all'anno la persona ha perso tutto è successo è scoppiato tutto nel 2008 2009 ma questi schemi si ricorrono vengono fuori sempre qui Dani ti faccio vedere ritorno un po' sul tema della di cui abbiamo parlato prima un po' del fallimento è saltata questa 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 cripto questa cripto era poi c'era non vado nei dettagli di tutto il meccanismo che era complesso me ne parlavano l'avevo scoperta qualche qualche mese fa io non è che cioè se seguo anche lì sai il mio approccio bitcoin perché bitcoin rappresenta il mercato cripto e se falli abbiamo sempre detto ragazzi bitcoin è una cosa tutto il resto del mercato cripto è tutto un altro anche lì Dani mi ha detto esce bitcoin 2.0 nel senso anche loro era una banalità chiaramente però per far capire lì l'aggancio un po' all'oro esce l'oro 2.0 sì ma l'oro è sempre è sempre l'oro bitcoin è il mercato delle cripto cioè se salta bitcoin salta tutto il mercato delle cripto non è che allora salta bitcoin allora riparte abbiamo visto luna terra luna che ogni volta dico luna fa benciascare terra luna che è saltata e ha avuto impatto comunque è stata una delle prime dieci era una delle prime dieci cripto per capitalizzazione ha avuto un forte impatto su tutto il mercato su tutto il mercato il mercato il mercato cripto voi pensate se salta se dovesse saltare bitcoin bitcoin è ad oggi il mercato cripto è come dire ok prendo ehm la l'economia globale investo nell'azionario globale perché mi voglio esporre all'economia all'economia globale insomma abbiamo sempre detto bitcoin è una cosa piccolissima percentuale 2 3 5% di bitcoin quello che siete disposti a perdere interamente ma non tutte tutte le cripto tutte le copie perché di là c'è veramente un rischio pazzesco che uno deve essere anche in grado di 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 sopportare di comprendere bene e quindi mi hanno parlato di questa non mi ricordo uno che sta sempre spignettava tanto con le cripto senza senza far nomi perché poi ci sono questi appassionati del tema cripto che va bene gli piacciono le cripto dico ah bellissimo il protocollo però non capisco niente di finanza e quindi non capisco i problemi della finanza tradizionale che è molto psicologia quindi mi raccontavano della della insomma di questo protocollo qui ah bellissimo il protocollo è una è una stable coin quindi è come se fossero dollari ma è stable con un algoritmo che collateralizza con bitcoin e ti dà se la metti ti dà il 20% al mese all'anno io lì da vecchio dinosauro della finanza ho fatto semplicemente due conti dico allora 20% all'anno non esiste da nessuna parte esiste non è sostenibile però dall'altra parte mi dicono va bene oggi è il 20% ma possono ridurlo se le cose vanno ma si mettono male abbassano la percentuale va bene mi sta bene poi aggiungo una stable coin quindi una criptovaluta agganciata con il dollaro questo qui è il grafico vedete come è agganciata con il dollaro però è agganciata con il dollaro con un algoritmo che fa arbitraggio e collateralizzano tutto quindi a garanzia di questa stable coin e danni ci mettono che cosa il bitcoin quindi l'azienda compra bitcoin per garantire io nella mia ignoranza tecnologica non starò mai ai livelli di quelli che spugnettano lì tutti i giorni però dico abbiate pazienza se io volessi una stable coin quindi una criptovaluta agganciata che replica uno a uno il dollaro ma li metto su un algoritmo che sta lì che fa arbitraggio collateralizzato in bitcoin o una cosa più semplice che compra i dollari e quindi mette mette a collaterale i dollari cioè mi dà la collaterale mettimi i dollari no perché se no se no manca se mi la devi agganciare al dollaro voglio una criptovaluta che compra dollari che a garanzia mette i dollari i dollarozzi quelli veri perché il bitcoin ha un attimo più di volatilità e infatti la frittata l'hanno fatta ma l'hanno romanzata con non sembra che c'è dietro c'è dietro c'è BlackRock che abbia fatto e tutto quanto quindi è stata un po' romanzata però la cosa la frittata che hanno fatto sostanzialmente è stata che prima è sceso bitcoin quindi il valore collaterale è diminuito quindi è diventata sotto collateralizzata quando eccola eccola qui quando la festa è iniziata a finire questi qua hanno venduto tutti i bitcoin per cercare di riportare sul cambio uno a uno non ci sono riusciti hanno finito tutto il collaterale è andato a zero fine della festa 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 completamente finita non esiste non esiste più qui veniamo un po' alla 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 storia alle persone che hanno per prendersi il 20% di rendita che era obiettivamente ragazzi il 20% non esiste all'anno non esiste da nessuno non è possibile che hanno fatto si sono venduti ci hanno messo i risparmi di una vita addirittura nei forum su reddit ci stanno le storie gente dice io ho preso un mutuo ho preso un mutuo l'ho messo là perché le persone dicono ok ma se io prendo un mutuo all'1% li metto lì sulla stable che mi dà il 20% metto a leva Dani e faccio faccio soldi sicuro purtroppo però non consideri che questo che può succedere questo perché le persone dicono no ma no ma il 20% è garantito ma garantito da chi da un algoritmo che fa arbitraggio collateralizzato in bitcoin cioè non esiste e lì non so se te l'hanno mai detto Dani ma a me negli ultimi mesi tantissime persone non riuscivo a spiegarlo perché non percepivano il rischio mi dicevano scusa Alessà ma perché io devo andare a mettere 100.000 euro sul conto corrente in banca che mi rende zero 100.000 euro li metto su questa criptovaluta su questa stable che mi dà il 20% il 20% all'anno mica so scemo io oppure mi hanno consigliato peggio ancora dai mette in galera subito può mandare in analisi mi hanno consigliato di prendere la liquidità metterla qui almeno ci prendo il 20% cioè è lo stesso discorso dei certificati per prendere il 20% all'anno cioè tu rischi di perdere tutto se io rischio di perdere c'è un'elevata probabilità di questo rischio qui cioè un conto è la stable che è collateralizzata a un dollari e comunque può succederti tutto te li possono anche rubare se non fallisce possono anche rubarteli te li puoi perdere ci stanno un casino di problemi quindi da una parte sono un fottio di rischi dall'altra al massimo se va bene ti prendi il 20% all'anno che uno dice ah è tantissimo sì è tantissimo ma se lo proporzioniamo a rischio è niente è veramente è veramente niente quindi capiamo la differenza tra i soldi in banca e i soldi in mercati non regolamentati non è che possiamo paragonare la liquidità in banca con la liquidità su una stable coin perché sono due cose completamente diverse in banca 100.000 euro bene l'inflazione tutto quanto eccetera 100.000 euro sono 100.000 euro rimangono lì ti danno zero benissimo è il rendimento per la garanzia di avere protetti quei soldi lì cioè quei soldi non te li tocca nessuno fino a 100.000 euro anche se fallisce la banca sono comunque garantiti quelli sono garantiti per quella certezza oggi il rendimento è zero quindi non è che possiamo andare a cercare rendimenti più alti sulla liquidità la liquidità garantita oggi rende zero fino a 100.000 euro è quello se tu lo metti all'altra parte ti danno il 20% per la liquidità c'è il rischio c'è il rischio di perdere in questo caso di perdere tutti ora finché il punto grosso che finché stai qui che questi vedono le persone vedono il cambio stabile si prendono il 20% qui dal 2021 ti becchi il tuo bel 20% quindi come fai a dirgli non c'è tu lo dici ma loro non lo capiscono perché devo lasciare si rovescia la frittata e ti dicono ma perché io devo lasciare i soldi in banca allo 0% quando li lascio qua e becco il 20% perché qui rischi ma va ma ti pare questa è grande tra le prime 10 per capitalizzazione ma non può fallire c'è il collaterale in bitcoin poi quindi è tutto garantito da bitcoin peccato che se bitcoin scende un po' il collaterale si abbassa e la festa rischia di finire come poi è successo ora speriamo di con questa situazione che non dispiace sempre hanno succeduto queste cose però speriamo che il messaggio del rischio passi cioè che ritorna la percezione del rischio che anche le criptovalute c'è il rischio tutte le criptovalute c'è il rischio che facciano questo ecco perché diciamo ragazzi bitcoin è un conto che potrebbe farlo le altre sono ancora più rischiose di bitcoin ma più del 3 4 5% non ci si può mettere perché non possiamo esporci a rischi di questo a rischi di questo tipo cioè qua non è ma potevi prevederlo ma sarei uscito prima cioè c'è gente in tutto ciò perché se chi l'ha comprata va bene cioè c'è gente che l'ha comprata mentre scendeva quelli sopra ma se l'avevi comprata qui sotto adesso da andare a riformatori sei un atto completamente pazzo tu in questo che ne ecco perché scusa poi chiudo ti ripasso la parola ecco perché dico ragazzi fatevi seguire dai consulenti finanziari indipendenti c'è Danilo ci stanno 56 fatevi seguire che questa roba in portafoglio non il rischio specifico è la prima cosa che andiamo ad eliminare perché loro e noi in primis e Danilo vogliamo dormire tranquilli io la sera devo andare a letto sapendo che lì fuori i consulenti stanno lavorando bene senza far prendere rischi specifici alle persone invece fanno investire i capitali delle persone in maniera diversificata con strumenti efficienti che costano il minimo che siano messi in percentuale adatta quindi coerente con la loro tolleranza al rischio e i loro orizzonti temporali per fargli raggiungere i loro obiettivi di vita futuri no giochiamo la schedina facciamo qua giochiamo qua è come giocare i cavalli ok e non è un approccio perché finché guadagni hai visto io qua io qua poi succede questo eh però se ti avevo dato se ti avevo dato tanto succede una volta là una volta l'anno ne so un po' io non l'abbiamo visto ve lo ricordate Bitconnect Bitconnect era un po' un po' di qualche anno fa stessa storia rendite alte entrano tutti poi salta in un giorno tutti hanno perso tutto poi ce lo scordiamo eh però Bitconnect era passato eh però adesso è un'altra storia adesso la storia è diversa qui c'è l'algoritmo e poi però la situazione è sempre è sempre la stessa e purtroppo tante persone ci rimettono poi quando la frittata è fatta non si può tornare indietro non si può tornare indietro perché è finito qua è finito non che recuperi hai perso tutto è finito tutto è finito ok quindi quindi questo quindi mi raccomando ragazzi fate le cose fate bene io vi rimetto il link per richiedere un'analisi gratuita del portafoglio che se avete portafogli sbilanciati non coerenti eh fatti peggio ancora con fondacci super costosi inefficienti date fate una bella richiedete un'analisi vi fanno vedere i rischi che state correndo i costi che state sostenendo che non sapete di di conoscere vi fanno un report ve lo spiegano al telefono in una videocall poi siete liberi di fare quello che volete se andare avanti oppure no è gratis senza impegno ma almeno prendete consapevolezza di quello che state facendo vi metto il link qui in chat lo trovate anche in descrizione vi chiedete l'analisi del portafoglio Dani tu dici aggiungi qualcosa stavo ragionando no? perché questo è davvero il lavoro secondo me più bello del mondo no? il consulente finanziario perché tutto quello di cui stiamo parlando alla fine c'è un'applicazione non matematica la spiegazione matematica c'è l'ho detta anche prima no? quindi tutto deve partire da matematica ma poi questa si scontra con questa robina qua con la nostra testolina con la testolina degli investitori ed è ed è abbastanza incredibile no? perché poi oggi per carità tu parli di di criptovalute quindi figurati il 99% degli italiani che oggi guardano sto video dicono sì ma di cosa stiamo parlando ti è saltata una cripto cosa strana ma chissà quante ne sono saltate quante ne salteranno certo questa era una stable coin lottava per capitalizzazione hai detto al mondo quindi settimo ottavo una roba una roba abbastanza grossa ma qua ci stavano tanti soldi dentro qua ci stavano tanti soldi ok non è la cripto piccolina punto uno ma punto due il tema è che queste cose tu adesso hai parlato di BitConnect ma quante ce ne sono state non nelle cripto non nelle azioni non nelle obbligazioni non nei certificati non negli etn da per da per tutto eh ah le ti ricordi le etn sul vix e i fondi comuni di investimento gli h2o e le obbligazioni dell'argentina della grecia eccetera e non dico italia ancora per fortuna e le azioni di che cos'erano wire card per esempio cioè ma ma cioè dai veramente potremmo andare avanti all'infinito quindi quando uno dice signori il rischio specifico esatto Madoff l'hanno già citato il rischio specifico dobbiamo eliminarlo eccetera 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 è proprio un discorso di è proprio un discorso di comandamento cioè non è una una buona regola è è un comandamento io faccio un peccato mortale devo andare a confessarmi se non faccio queste robe però deriva tutto dalla testa secondo me l'investitore va a prendersi il rischio specifico per due motivi il primo è passatemi il termine l'ignoranza finanziaria ma no ma figurati se fallisce no figurati se fallisce perché perché oggettivamente è meno dell'un per cento di tutti gli strumenti finanziari che fanno oggettivamente una brutta fine se no non avrebbe senso neanche investire anche diversificando non avremmo dei benefici quindi sono veramente poche le 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 per fortuna le obbligazioni le azioni le cripto un po' di più però insomma chiaramente è legato al rischio rischio rendimento però sono pochi gli strumenti finanziari che che collassano che falliscono però questo è un rischio veramente subdolo perché provate a immaginare io cioè se io prendo ho centomila euro ok se da centomila vado a duecento sono strafelice sono strafelice però dici vabbè ok ho guadagnato un sacco di soldi sono felice ma se da cento vai a zero non sei triste sei rovinato che è molto che è molto peggio che è molto peggio provate nella vostra testa ho centomila euro centomila euro il mio tenore di vita ho il mio reddito sto bene certo ti piacerebbe averne duecento vabbè avrei la macchina più bella sì ma raga ma un conto è la macchina più bella un conto è zero ho perso tutto ecco questo è il rischio specifico capite a cosa andiamo incontro e quindi punto uno è ignoranza perché perché non capisco ma io ho un po' di soldi investo in BTP quale 50 anni perché è quello che mi rende un po' di più rispetto agli altri e qua ragazzi ahimè è passato il mio termine ignoranza finanziaria io non non lo so non mi rendo conto dei rischi specifici che sto correndo del rischio vero e proprio che sto correndo il punto due è perché vado a prendermi il rischio specifico sempre per un discorso mentale del gambling quindi voglio scommettere che questo strumento finanziario sia il cavallo vincente quindi io con questo strumento divento ricco però questa roba non non succede cioè non è così è come dire vado in palestra nove ore di fila perché divento muscoloso e no no l'investimento è proprio come la palestra cioè io ci devo andare venti minuti tutti i giorni e dopo cinque anni tre anni dieci anni quello che è io inizio a vedere i risultati se vado in palestra venti minuti oggi venti domani e tra tre giorni mi metto allo specchio facendo il muscolo dicendo vediamo no non vedi niente è una cosa tu non vedi niente giorno dopo giorno però se ti giri indietro cinque anni fa ti guardi la fotografia e cinque anni dopo sei un'altra persona l'investimento ragazzi è questa roba qua è andare a fare una roba perpetua continua con una strategia di fondo e deve essere e lo dice sempre Moretti noioso quando noi abbiamo dei clienti che ogni tanto arrivano per fortuna pochi perché sono educati finanziariamente ma io mi immagino il cliente medio che dice eh no ma che barba ma quest'anno abbiamo fatto due operazioni insomma andate a fare due ribilanciare due magari due momenti dove abbiamo fatto tre quattro operazioni ma allora lo faccio da solo ma allora ma cosa mi serve il consulente e allora iniziano e allora aspetta perché allora guarda ci sono un po' di aziende growth che guarda cazzo ci sono i miei amici hanno fatto il cento per cento non ne compro qualcuna metto Netflix e poi settoriali cazzo settoriali 2021 hanno fatto il 200% allora io ce lo metto e tu gli dicevi no lascia un po' di liquidità perché a fine 2021 era tutto tutto alto poi la liquidità è sbagliata però un 20% del portafoglio lasciamolo lì le obbligazioni rendono zero le azioni a due anni che stanno correndo quindi non sto dicendo usciamo dai mercati ma stiamo investiti in modo corretto con una bella strategia stiamo guadagnando quindi abbiamo magari l'80% investito sparo 50 azionari o 50 obbligazionari con un po' di oro con qualche magari il conticino deposito che dici guarda se crolla qualcosa siamo pronti a entrare e 20 lascia una liquidità perché secondo me non secondo me perché il mercato è salito dal 100% in due anni quindi sai che c'è oggi con l'inflazione ancora relativamente bassa lascia un po' di liquidità senti Dani ma la liquidità visto in banca rende zero ma se la metto su una stable coin che rende il 20% mi hanno detto che un protocollo è super che dici? guarda questo è un caso reale di uno che stiamo seguendo con un consulente che ogni tanto lo sento anche io o meglio sento il consulente mi dicevo Dani aiuto non riesco perché era proprio una situazione così portafoglio fatto bene stava guadagnando un sacco di soldi aveva preso il 2021 quindi siamo andati a mettere un po' un po' di liquidità a dire guarda per me è perfetto base base parlo proprio un esempio concreto è base contodeposito una piccola parte è l'1,25 non paga il bollo perfetto lascialo lì che non fa male dopodiché una parte obbligazionaria 20-30% obbligazionario poco perché rende poco e avevamo il 20% di contodeposito una parte di oro la parte azionaria è un 20% di cash di dire ah cosa faccio lo investo ma sai che c'è novembre 2021 lascialo lì lascialo lì cliente uguale a te no ma c'è la crypto c'è il settoriale c'è Netflix bene tu oggi arrivi ma è successo poco fa poco fa scusa scusa ti interrompo Dani questa è stupenda ragazzi Daniela che salutiamo ragazzi incredibili sto passeggiando mentre vi ascolto ho incontrato altre persone che anche loro vi stanno ascoltando siete grandi tutti vogliono fare la canzone con voi questa è bellissima e quindi situazione ideale tu dici stai lì tranquillo cliente tranquillo ma no ma tu mi fai perdere soldi ma cosa vuol dire tranquillo già c'è un contodeposito via Netflix growth settoriali e un po' di crypto tu oggi arrivi con i consulenti ti ricordi quella posizione la guarda adesso è crollato l'obbligazionario è sceso l'azionario perfetto adesso si puoi anche togliere il contodeposito gli vai a rimettere su situazioni non tutto non all in però su situazioni che oggi il mercato effettivamente ha dei prezzi un pochettino più interessanti e c'è il consulente mi dice eh no Danilo purtroppo si è giocato tutto con rischio specifico in qualche growth in qualche BTP a 50 anni e tu dici ma perché perché lì è la testa è la testa di dire no ma io non sto a fermo ma io non sto a liquidità ma no ma io ma che palle ma no ma che noia ma no io devo fare io devo investire ritorno anche qui sempre su quello che hai detto tu qua c'è un doppio messaggio qui siamo sempre sull'una però non sulla stablecoin invece proprio sulla sulla criptovaluta luna che da quando è stata è uscita nel qui vabbè qui è in quotazione non so se è proprio stata quotata nel nel no è stata quotata molto prima però prendiamo dal dal 2021 quasi sta a 14 a 14 dollari sui massimi di mercato aveva fatto aveva fatto già il 600 il 600% e ripeto ci sta da prima prima valeva pochi centesimi quindi la criptovaluta aveva fatto proprio 10.000 20.000 100.000 percentuali incredibili le persone dicono qui si inizia a popolare sui massimi io grande investitore guarda qui tra amici chiaramente se qualcuno l'ha imbroccata anche perché Ale perdona scusa se ti interrompo ma anche perché ti senti un pirla no? perché i tuoi amici iniziano oh ma tu l'hai presa? eh certo io l'ho presa eh stai guadagnando sì sto guadagnando e tu sei l'unico dici cazzo ma io sono proprio l'unico capito qua si si riempie di personaggi ho anche amici conoscenti che ti iniziano a dire ah guarda ci ho messo ci ho messo 500 euro adesso adesso ne valgono 50.000 e poi ti fanno guarda qua guarda di là io qui l'ho comprata qui poi ho incrementato qui poi ho preso qui qui e tu dici te lo dice uno poi già arriva l'altro poi senti quell'altro tutti quanti tutti quanti i fenomeni e anche le persone semplici dicono vabbè allora che cavolo sarò io il pirla che lascio i soldi metto i soldi liquidità ce l'ho sul coto mi hanno detto Alessandro e Danilo l'azionario internazionale mi hanno detto l'obbligazionario ma però rende poi 0 1 ma sai che c'è allora aspetto che scende un attimo e la compra puntualmente inizia a scendere e lì ah cavolo stava 120 prima stava 120 adesso la compro 80 è un affare la sto molto molto vedrai perché poi senti gli amici che dicono ah vedrai arriverà a 500 arriverà a 1000 perché il protocollo perché l'algoritmo e tu poi dici beh ma se me lo dice lui che ha fatto che ha fatto un sacco di soldi è perché ci capisce quindi quindi mi fido perché se no non avrebbe fatto se stanno dagnando non è scemo esatto attenzione poi qui a valutare le persone diciamo ha fatto un sacco di soldi quindi è bravo perché c'è il rischio che è stato il lucky idiot come dicono gli americani nel senso che cos'è il super enalotto lui non sa di aver fatto 6 al super enalotto non sa che è difeso dal caso pensa che è stata qualche dote magica sua personale tocco magico che poi a un certo punto però il tocco magico finisce e se tu pensi di fare la stessa cosa perché poi dici ok allora adesso tu hai messo 500 infatti 50 mila adesso sai che c'è io ne metto devo recuperare perché ormai non è più ai prezzi di un anno fa se arriva poi guadagno poco allora ce ne metto di più e allora ce ne metti 10 metti 10 mila poi ti succede che boom qua addirittura pensavi averla comprata a sconto vabbè l'ho presa adesso a sconto adesso riparte visto te l'avevo detto questa ripartiva boom andata al fine e qua non è dire poi è maesco prima perché prima è successo in una notte io neanche neanche me è arrivato Matteo come l'hai visto è zompato tutto è un casino dico no non lo so non sto tutti i giorni tutte le mattine mi sveglio a sapere che fanno tutte tutte le cripto e ti ritrovavi polverizzato e neanche ne accorgevi poi se l'hai comprata mentre scendeva qua sei proprio un pazzo un pazzo scatenato con Matteo ci siamo divertiti a vedere le persone che compravano mentre è finito è saltato l'algoritmo che regola tutto come un wildcard ma l'hanno chiusa è fallita l'azienda sul sito c'era scritto azienda in liquidazione fine veniva ancora scambiata adesso fortunatamente l'hanno delistata e uno mi ha detto no ma l'ho comprata un cippino ci ho messo un cippino ma che cippino è fallita non c'è più ma che è un cippino ma non lo metti ma c'è a cena col cippino no ci ho messo un paio di mila ma che è un paio di mila ma come porti non dali a me la prossima volta non dali a me faccia il mare compagno capi capi poi qua finché non è Matteo mi ha tirato fuori l'esempio bello ho detto ieri sera ho detto ma insomma come va l'una è finita dice no no è come un pesce che muore dall'acqua che sbatte sta a dare le ultime botte che prima è incredibile poi però come attira l'attenzione delle persone che dicono se la compro qua e torna su faccio i fanta miliardi ma no su non ci tolta sereno che non è che è automatica è saltata la base è saltato il protocollo è saltato tutto è saltato come per Wildcard che era incredibile mi dicevano no però un cippino perché è ancora scambiata ma l'azienda non c'è più capisci che stai a comprare e quindi mi ricordo il nome ma lo saluto perché era anche un nostro è venuto a un nostro corso quindi l'avevo conosciuto così e poi alla fine del corso ho detto adesso hai capito perché non devi comprare dice sì sì adesso ho capito meno male l'avevo comprata prima del corso è tutto e quindi queste cose ragazzi sono importanti tra l'altro l'ultima cosa che volevo farvi qui questa situazione qui ragazzi scusate se ci battiamo ma è ricca di esempi che credo che valgano veramente più di perché poi arrivano i commenti di chi vede dopo dicendo però chiacchierate a parte che è un talk quindi dobbiamo parlare perché dobbiamo passare piacevolmente un paio d'ore insieme e quindi non è un format tecnico se volete format tecnici di fuori è pieno c'erano miliardi di applicazioni tecniche del protocollo di luna che poi avete visto che fine ha fatto quindi cerchiamo di parlare di cose importanti di dare messaggi importanti e lì un altro messaggio importante di questo è quello che vi dico sempre voi potete aver guadagnato quello che volete anche qui dai minimi uno avrebbe fatto il 2300% ma il meno 100% di qualsiasi cosa voi abbiate guadagnato è sempre zero quindi anche anche qua non ci stanno non sono usciti i vincitori hanno perso tutti ma c'è quello che l'ha prevista era imprevedibile ma si poteva sapere la previsione poi passami la palla Ale che anche qua voglio dire una cosa carina qui volevo dire attenzione perché quando c'è qualcosa che è il 3000% in meno di un anno c'è dietro non può non avere rischio dietro ok poi non sto non sto abiasimando chi aveva l'oluna è un pirra no perché uno se uno mi dice guarda mi piaceva il protocollo mi piaceva perché poi a me non piace come una roba che non esiste da nessuna parte però uno dice ma sai che era carino il protocollo l'algoritmo le cose mi piaceva ci ho messo lo 0 lo 0 3% del capitale nella stablecoin no stablecoin no perché per prendere il 20 rischi tutto sei pazzo non c'è proprio rischio rendimento sulla criptovaluta diceva sai che c'è provo a fare il 3000% rischiando il 100% almeno rischio rendimento ci stai ci hai messo lo 0 virgola qualcosa se fallisce come è successo ti impatta qualcosa no dici vabbè faccio pinta me l'hanno rubati e via comunque ho messo 100 euro se ne fa se ne fa la ragione va avanti vive 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 lo stesso quindi non sto se qualcuno ce l'aveva diceva mi piace il protocollo e tutto l'avevo presa ci avevo messo qualche qualche cosina va bene va bene ma se uno ci ha messo c'è gente che c'era il 10 il 20 il 30 una roba incredibile no ma io tanto qui ho la rendita ma quale rendita non c'è niente c'è il rischio che perdita è quello la cosa da cui stare attenti perché poi anche se uno perde non puoi perdere il 10% in un giorno se uno c'è investito il 10% del capitale o il 20% non ti puoi volverizzare il 20% del portafoglio in una mezza giornata il 20% ma quando lo recuperi il 20% devi fare il 25% ma dove lo prendi adesso il 25% i mercati il 25% ci mettono perché poi nascono le trappole mentali qui che se tu perdi tanto poi a quel punto adesso hai perso il video adesso devi andare a cercare qualcosa che ti fa recuperare recuperare subito quel 20% e attenzione lì ragazzi che vi fate ancora più male perché adesso per andare a recuperare i soldi persi adesso vedrete che tantissime persone si andranno ad infognare su progetti sempre più rischio no però questa qui questa recupera che stava forte andranno a cercare paradossalmente andranno a cercare rischio invece di dire ok la frittata l'ho fatta prendo la lezione imparata la lezione ho perso soldi ma ho guadagnato in esperienza sperando di avere che gli siano rimasti i soldi insomma per fare la spesa ce l'auguriamo ho guadagnato in esperienza adesso inizio a fare le cose fatte bene diversificazione pianificazione eccetera eccetera se iniziate a dire no però adesso mi sono rimasti l'80% del portafoglio però devo recuperare in fretta quel 20% inizio a prendere le criptovalute più scam che ci stanno sul mercato inizio a spingere sulle grotte perché so so scese dell'80% e poi qua e utilizzo la leva e poi vado short sul petrolio e poi compro la volatilità inizia a fare questa roba qui se non avete finito i soldi con la situazione che in questa situazione incredibile che è successa di finire da breve pasticciando tra un'operazione e l'altra quindi anche lì attenzione a non incrementare il rischio per cercare di recuperare prima le perdite perché farete un disastro clamoroso cioè questo fatto qui a parte dell'accusato tutto il mondo cripto ma a livello psicologico la psicologia delle persone non si recupera dall'oggi a domani il mondo cripto sicuramente si dovrà riassestare e ci mettere a mesi perché ha subito un contraccolpo importante e non andate a cercare il rischio per recuperare prima le perdite perché farete un disastro un disastro clamoroso ok Dani ti la parola eh sì 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 assolutamente anche questo perdonami stiamo dicendo cose fuori dal mondo cioè convenite con noi in quello che stiamo dicendo scrivetecelo magari nei commenti stiamo dicendo una roba che fuori dal mondo dite ma questi sono matti oppure convenite con noi e siete d'accordo con quello con quello che stiamo che stiamo dicendo cioè preferite fare vedere vedere guadagnare il 3000% per poi vedere il conto a zero o preferite di massima diversificazione mille mila tutti gli strumenti finanziari nel portafoglio e aspettare che il mercato faccia il suo faccia il suo corso di dire perché cos'era almeno ci rendiamo ci rendiamo ci rendiamo conto magari siamo noi siamo ietti dei danni che siamo matti scatenati e poi dico anche un'altra cosa d'accordo adesso è facile essere d'accordo adesso poi quando le cripto ripartono i settoriali ripartono le azioni grow ripartono chissà perché tutti quelli che oggi no sono d'accordo sono d'accordo tra uno due tre anni eh no però adesso forse salvate salvatevi il link salvatevi tanto rimane il link salvatevi perché quando succede il patatrac e tu ne parli tu ti è sì no certo c'è no hai ragione hai ragione ma però quando tutti sono lì a pompare eh no ma però io devo fare i soldi porca miseria e è così no anche sul sul discorso del timing no a parte che quello che hai detto te adesso Ale è proprio è proprio così cioè quando uno perde è anche quello è tutta te è tutto ragazzi investimenti è tutta psicologia è tutta testa quando uno perde qual è la prima cosa che dice anche io sui miei soldi adesso come faccio a recuperare i primi secco è proprio uno più uno pan due è tutti è tutti tutti è la nostra testa che è programmata così e immancabilmente per recuperare cioè per recuperare non è non è facile non è adesso faccio così guadagno no non esiste quella roba quindi vuol dire andare ad aumentare il proprio rischio e aumentare il rischio vuol dire appunto rischiare di più e quindi poter perdere ancora di più e quello si genera un circolo vizioso che veramente abbiamo visto tanti casi che porta porta alla rovina perché uno continua media o compra altro va a leva inizia a usare la leva come faccio a guadagnare più la leva vado a prestare chiedo soldi ne investo di più guadagno di più e continua a scendere e facciamo facciamo disastri anche sul timing è importante anche il timing perché sento tantissime persone che io dico sempre quando tu fai un investimento un investimento fatto con la testa deve essere fatto dicendo ok ma se va come penso io perfetto e se invece scende e se invece succede va male io ho sempre due scenari se va male facciamo così se arriva una catastrofe facciamo cosa ok quindi all'investitore al cliente sostanzialmente do sempre due scenari se va male e se va malissimo ok se va male noi dovremmo fare così se va malissimo attenzione perché chiaramente dovremmo capire che è una situazione particolare non è mai successo nella storia e faremmo così sei d'accordo? cioè già so già cosa fare se scende perché tanta gente dice sì no anche io ho fatto questo ragionamento ho comprato questa cosa e poi beh cosa farei magari appena prima che scende se proprio vedo che sta iniziando ad andare male la vendo pensa io non ho servito anche cioè pensa alle frasi allora sì io lì poi la guardo tutte le sere ovviamente se m'accordo che c'è qualcosa che non va prima che scende magari la vendo a parte che se ti accorgi che c'è qualcosa che non va hai già fatto il meno 80 quindi sei già cioè oppure quelli quelli che ah no ma io fine 2021 ho liquidato tutto ho liquidato tutto quindi meno male perché adesso è crollato adesso sto rimettendo piano piano quindi ho ho salvaguardato il mio capitale io le dico bene io so io ho la garanzia al 99,999% che tra dieci anni tutti i miei clienti hanno guadagnato più di te sono affermazioni perché che cacchio vuoi perché di sì perché il tuo approccio è oggettivamente sbagliato tu hai venduto oggi ti è andata bene ma su una che te ne va bene nove ti vanno male venderai quando poi il mercato ritornerà a salire e poi per rientrare comprerai a prezzi più alti oppure non comprerai io so che con questo approccio tu perderai soldi o meglio guadagnerai molto meno rispetto a dei nostri clienti rispetto a un approccio che dai libri di storia di testo di storia finanziaria ti permette di guadagnare di più questo è un approccio all'investimento che lo ripeto è la palestra uno dice ma compo non vedo ma io vedo che i tuoi clienti oggi stanno perdendo sì lascia perdere non guardare oggi abbiamo pianificato abbiamo degli obiettivi al raggiungimento degli obiettivi loro avranno guadagnato più di te perché? perché oggi ti è andata bene una volta che ti va bene otto volte ti va male e da qui non ci si scappa non ci si scappa io adesso sarà un po' per esperienza sarà per le letture che ho fatto sarà perché ormai Ale ne abbiamo iniziato a vedere a vedere sulla nostra pelle sulla nostra pelle quindi dopo un po' ti metti l'anima in pace ti metti l'anima in pace e alcuni errori tra virgolette che è esco prima quindi il timing oppure ah guarda questo che sali tanto ci metto i soldi proprio a me viene ribrezzano dicono no non è non si fa così tante volte vado proprio per ho creato un'abitudine apprendente con le abitudini di modo di ragionare e dire ah cazzo potrei no ma non si fa così adesso non mi ricordo bene ma non si fa proprio così è distinto no non si fa così ah certo non si fa così perché sto mettendo troppo rischio e ritorno sul razionale però il bello è quello che oggi mi accorgo e dico no ma non si fa così io non so bene ma non si fa così ok ed è tutto quel discorso del l'abbiamo visto nel 2021 arriviamo da un anno molto particolare i vari settoriali i vari i varie azioni ma anche anche il dream team tante volte arriva uno eh no ma il dream team prendiamo qualcosa va bene ah oppure non ne parlate più del dream team non hai capito niente il dream team era che tra l'altro anzi si potrebbe anche rispolverare perché ti ha battuto il benchmark ok perfetto ottimo ma adesso sta facendo il meno 50 sì su un'azienda growth cosa ti ha sì sì certo quindi è crollato quel mondo eh no perché io ci ho messo l'80% dei miei soldi allora perdonami non è era un gioco era un gioco gratis cioè non era cioè era robe così no ma c'è anche il fondo Archinvest che è più o meno di che investe in quella tipologia di aziende che ha fatto performance che poi ha perso il 70 l'80% ma non è che Cadywood è diventata Somara dall'oggi al domani ho smesso Stelli io dice io per contratto devo investire in queste queste aziende tra 20 anni ci saranno alcune che avranno fatto eccetera quindi di diversifica e tutto ma non è diventata Somara da un giorno all'altro semplicemente il mercato è passato da una fase in cui tirava ad una fase in cui è stato è stato venduto e è la natura proprio di quella di quella di quella tipologia di aziende sai cos'è la cosa la cosa che mi piace tantissimo nel nostro approccio nel nostro modo di investire è che quando uno si mette rischio specifico in portafoglio cerca di fare più soldi del mercato prima o poi arriverà da te con una frase che ti dice Alessandro e adesso questa è la frase di chi fa questi errori prima o poi arriverà a dire e mo che faccio quello che dicevi anche te prima incremento cambio settore cambio azienda cambio approccio e qualsiasi cosa fai è sbagliato perché se tu incrementi boh non lo so quanto è giusto se hai rischio specifico se hai rischio specifico chi ti dice che risale come hai detto c'è gente che ha messo soldi ieri e l'altro ieri ma questi sono pazzi nella testa quindi incrementi per definizione l'investimento con rischio specifico non può essere incrementato non può perché se sta andando male per alcuni fattori fotizzate un'azienda che non è più competitiva all'interno di un settore blockbuster o quei soliti no cosa fai incrementi ma no ma fuori di testa oppure cambio approccio ok via basta cambio approccio ma no magari sei nell'azienda growth magari in un settore che ok è in una fase di debolezza tu lo stai vendendo nella fase di debolezza più assoluta cioè qualsiasi cosa fai è sbagliato ecco col nostro approccio non esiste e la domanda è adesso col nostro approccio c'è sempre una risposta che può essere incrementare che può essere ribilanciare che può essere ok facciamo questa mossa anche tattica per assurdo ma sempre misurata calcolata e non a caso io quello che insegno a tanti nostri consulenti in generale io con ogni cliente rimango sempre caro cliente scenari oggi ci siamo messi così non per quello che farà ma per quello che ha fatto e per quello che sono i tuoi obiettivi punto 2 se da qui poi il mercato che è una variabile ovviamente aleatoria quindi che noi non possiamo prevedere quindi se il mercato farà così noi dovremmo fare così per raggiungere i tuoi obiettivi se invece il mercato farà cosa noi faremo così sempre per raggiungere i tuoi obiettivi sei d'accordo? sei d'accordo alleo psicologico abbiamo una strategia? sì ok poi immancabilmente però Danilo così che noia non lo so manca un po' di sprint al nostro portafoglio e lì c'è da fargli vedere questa live e dire ok vuoi un po' di pepe? vuoi perdere un po' di soldi? per carità hai tirato fuori tanti tanti esempi tanti messaggi tanti approcci diversi che utilizzano che utilizzano le persone quando investono intanto la cosa più importante è ribaltare l'investimento da dove? dalle persone che guardano i mercati qual è la migliore opportunità qual è perché adesso Netflix Netflix ha perso più del 50% e le persone dicono ma è Netflix Netflix non può fallire quindi ho comprato Netflix e sto perdendo il 50% incremento perché tanto Netflix risale buono nel senso nessuno lo sa se Netflix se ci sarà ancora Netflix tra dieci anni io ti posso dire che tra dieci anni sicuramente ci sarà l'economia globale ma Netflix non lo so se ci sarà tra dieci anni eh però ha messo va bene tutto io non so neanche se ci sarà Facebook tra dieci anni quindi tu uno inconsciamente sta dicendo ok Netflix è scesa io sto perdendo il 50% incremento quindi aggiungo capitale sul rischio specifico su un rischio che si è perso il 70% 50 al 70 quello che è un motivo ci sarà cioè quindi paradossalmente tu aumenti il rischio specifico su aziende che stanno andando male che se stanno andando male un motivo ci sarà come ad esempio Tiscali big tech pazzesca nel 2000 doveva essere il futuro nella bolla tech del 2000 Tiscali come tantissime altre aziende veniva comprata a mani basse eh ma Tiscali è il futuro di qua e là Tiscali meno 50 eh ma Tiscali Tiscali deve andare a incremento altro meno 50 ragazzi stiamo parlando la telefonia le reti che è impossibile un mondo senza Tiscali e compravano e compravano e compravano aggiungevano rischio specifico su aggiungevano anzi capitale su rischio specifico su un'azienda che non stava neanche facendo utili e che non avrebbe mai fatto utili nei prossimi non ha mai fatto utili e tutti quelli che hanno magari iniziato a costruire la posizione su Tiscali così come tante aziende che poi nel frasce se altre pagine gialle perché mai ce le dimentichiamo perché falliscono saltano quindi uno dice ma non se ne ricorda Tiscali la tiriamo sempre come esempio perché è l'unica in Italia che è sopravvissuto solo in Italia può succedere che un'azienda che non fa utili per 20 anni sopravvive è una cosa incredibile però tu ci vai ad aggiungere il capitale ti perdi mercato rialzista più bello lungo della storia ti sei andato ad impugnare a caricare rischio su una singola su una singola su una singola azienda la stessa cosa uno potrebbe dire potrebbe succedere non lo sa ma potrebbe succedere su Netflix su Facebook siamo sicuri che tra dieci anni le attuali fang saranno? beh Bezos lo dice lui lo dice lui ogni volta che lo punzecchiano lui dice ragazzi guardate che noi qua stiamo lavorando come matti per fallire il più tardi possibile lui usa sempre queste parole lui dice ma il nostro obiettivo non è fare utili non è fare sì va bene ma è fallire il più tardi possibile e questo ti fa capire proprio la psicologia giusta o no? cioè ragazzi prima o poi tutte le aziende falliranno per un motivo per l'altro non lo so perché arriveranno dei competitor e l'economia che girano per carità ma tutte le aziende falliranno è un concetto incredibile ma prima o poi tutte falliranno e se tu sei investito in modo diversificato questa è una roba che non te ne deve non è una roba aiuto allora cosa faccio no ma se sei investito in quell'unica azienda allora fatti due domande esatto quindi non sappiamo se ci sarà Amazon se ci sarà Netflix magari ce ne saranno tre due cinque magari ci saranno tutte perché anche Blockbuster non sarebbe dovuta mai fallire anche Nokia non sarebbe mai dovuta fallire eppure abbiamo visto la fine che hanno fatto lo sappiamo solo dopo adesso prima sappiamo non sappiamo quelle che ci saranno tra dieci anni ma sappiamo sicuramente che ci sarà ancora l'azionario globale cioè l'azionario globale ci sarà perché ci sarà l'economia globale ci saranno le aziende che faranno utili saranno votate potremo comprare le azioni diventare azionisti quindi ci saranno sia azioni che obbligazioni perfetto quello ci saranno rimarranno se non ci saranno è perché non ci sarà più l'economia globale se non ci sarà più l'economia globale non ci saremo neanche noi quindi non sarebbe un problema però non sappiamo quali aziende ci saranno tra dieci anni quindi se noi compriamo non fallisce scende però viene sostituita da un'altra azienda e nel frattempo diventa gigantesca oggi diciamo è però nell'azionario globale c'è il 60% c'è il 68% di America sta andando bene perché c'è l'America che sta andando bene Nii nel senso che dieci anni fa nell'azionario globale l'America pesava il 20% non mi ricordo il 20% perché è cresciuta l'America che come economia e come mercato finanziario che oggi è presente nell'azionario o nell'azionario globale se fosse stata la Cina che in questo tempo magari diventava paese sviluppato fosse cresciuta a posto dell'America magari nell'azionario globale c'era il 30% di Cina stiamo ragionando con quello con quello con quello che con quello che è successo quindi tu dici ok i migliori ce l'avrò sicuramente i peggiori mi usciranno e i migliori mi rimarranno e questo è il messaggio della diversificazione e quindi ritornando a te poi Dani è importante aver ribaltato la situazione da in quale cosa mi conviene investire di quale azione a dire ok parto da me parto dai miei obiettivi non devo andare a prevedere il mercato che non lo prevede nessuno perché se no erano tutti tutti in fanta le banche non dovevamo vendere i fondi ai poveri investitori se potevano prevedere il futuro non lo prevedono le istituzioni finanziarie figuriamoci se lo possiamo noi dalla persona singola dal paesino dalla cameretta dal garage non esiste ribaltiamolo ribaltiamo la cosa pianifichiamo in base alle nostre esigenze i nostri obiettivi la tolleranza al rischio a Danilo gli arriva la persona tu lo sai che è il bitcoin no io le cripto basta non ce lo metto ma ci vorrei investire ma tu non lo conosci non sai che voglio lascia stare se non lo conosci fine zero eh però no no non serve ma a me la liquidità serve tra sei mesi e allora lasciala sul conto ma mi hanno detto che c'è la stable coin che ti dà il 20% all'anno intanto faccio il 20% no 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 lo puoi fare ok quindi iniziamo a pianificare su di noi cioè io quando guardo guardo il conto quelle poche volte da parte di investimenti ve l'abbiamo detto meno la guardate meglio è non è che dico ah adesso l'azionario globale ha perso il 10% sono diventato più povero il 10% cioè io dico ma di solito tra quanto ha pianificato a quanto a 20 anni mi servono no la liquidità per per le emergenze ce l'ho sì la liquidità per le spese di tutti i giorni ce l'ho sì la liquidità per andare in vacanza ce l'ho sì la liquidità per far quello che mi pare nel breve ce l'ho sì eh la liquidità per gli obiettivi a breve la liquidità gli investimenti per gli obiettivi a breve ce l'ho sì di quello lì dell'azionario che ha perso il 10% meno male che è sceso va a posto anzi se la liquidità mensile adesso posso fare il risparmio mensile posso incrementare a prezzi più bassi perfetto però sopravvi cioè il mio stile di vita il mio tenore di vita che per quanto sto sempre tutto il giorno chiuso a parlare è rimasto uguale è rimasto non è che adesso non vado a cena al ristorante perché l'azionario ha perso il 10% al ristorante ci andiamo uguale ci andiamo e l'abbiamo detto 100 volte lavoro reddito risparmio investimento queste sono le cose sono le cose importanti tanto non lo controlliamo non è che se guardiamo l'azionario sale di più no quello è per obiettivi a lungo basta diversificato sì rischio specifico ci sono no gli strumenti sono efficienti sì i costi sono minimi sì a posto la previdenza sta a posto per esempio invece di stare là guardare tutti i giorni l'azionario così speriamo che risale non lo sposta nessuno la previdenza l'abbiamo messa a posto dove l'abbiamo messo i soldi ce l'hanno fatti mettere in qualche fondaccio che ci sono più costi era la mia previdenza le sa era quella lungo periodo le cripto io l'ho messa lì al 20% dall'anno altro vuoi fare tutto eh ma i fondi pensione sono vecchi ormai adesso stanno le cripto cavolo ti sta giocata la pensione con le con le con terra luna ciao ciao pensione è finita allora pensiamo abbiamo pianificato bene la pensione il fondo pensione qual è quello migliore quello più efficiente contributo al datore di livello fiscale l'abbiamo fatto l'abbiamo messo a posto sì o no poi è inutile che sentite magari i ragazzini che parlano di finanza i ragazzini che parlano di finanza di previdenza non la sanno perché vedono i leggono i libri americani vedono i youtuber americani li riscopiazzano ma la previdenza americana non è come la previdenza italiana e la previdenza italiana è legge è noiosa i ragazzini non la guardano e allora dicono no crypto bitcoin per la pensione piuttosto che che no gli etf no ogni cosa c'ha c'ha il suo investimento cioè le etf mi hanno detto l'etf per la pensione ma tu sei matto in testa sei cioè c'hai problemi grossi per la pensione ci stanno i fondi pensione che io sono anche agevolati a livello a livello statale e convengono nettamente meglio per l'obiettivo pensionistico rispetto all'etf tra l'altro Ale tra l'altro Ale è una cosa interessante no sento tante persone dire internet oggi c'è internet la digitalizzazione youtube quindi oggi la cultura finanziaria non è più come una volta oggi queste cose sono sdoganate ormai no perché fanno passare cultura finanziaria aspetta esatto il problema sai qual è anche su questi argomenti di oggi che stanno alla base ma secondo me il video di oggi ha un valore pinniamolo in alto nel canale si può pinnalo come primo no perché perché 20 anni fa tu avevi la tua cerchia di conoscenti amici non so quale 100 persone che alla fine sì è vero che sentivi sempre quello che diceva ho guadagnato quello che perde non lo sentivi mai no però sai com'è eri più conoscevi quelle 100 persone quindi parlavi un po' con tutti a uno andava bene a tre andava male quindi ci sai che c'è boh non è che mi oggi internet dà visibilità a chi a quelli che ce l'hanno fatta quindi cosa succede uno su cento ce la fa quindi in internet troviamo ah qua i dieci ah qua i dieci hanno vinto che poi vanno a rotazione perché poi uno ah quello che fine ha fatto come mai non si sente più boh non lo so però chi vince lo vedi chi perde non lo vedi e quindi tu cosa succede ah guarda quello ha vinto ah quello ha vinto quello ha vinto quindi sta nascendo la sta nascendo si sta concretizzando la cultura del ricco subito voglio guadagnare veloce che non non esiste cioè esiste con gli investimenti certo con gli investimenti certo certo e quindi capisci che ma io con la previdenza non divento ricco sì ma ti sistemi la vita porca cioè è quella roba lì è quella esatto cioè non capiscono il prezzo di poter diventare ricchi con gli investimenti che qualcuno non ce la fa però ragazzi si diventa ricchi anche con super enalotto e giocando allas vegas cioè cazza poi certo lo sappiamo dico sì ho capito super enalotto e vince uno su dieci milioni allas vegas si sono rivognati tutti tranne due nella storia gli investimenti è uguale ragazzi solo che non lo vedete qua nei broker c'è scritto 99% di persone perde non è che guadagna meno rispetto ai nostri clienti perde so quelli sono in banca in banca guadagnano meno rispetto ai nostri ecco ne col resto col diventare ricco con gli investimenti 99% perde perde proprio soldi e quindi oggi la digitalizzazione i video e tutto questo è un po' spostato prima c'erano i forum i forum all'inizio ci stanno sempre ancora esistono vent'anni di forum e ci sono sempre persone che litigano stanno lì ma c'è quello però ogni anno vedete persone diverse e quindi ogni anno c'è sempre quello che ci ha azzeccato perché puntualmente vengono fuori quelli che ci azzeccano che l'anno dopo non ci azzeccano più e poi sparì ma è normale ma sui forum ma chi ci sta ci sta qualche ludopatico di protagonismo che c'è anche io vent'anni fa appena ho iniziato sui forum poi mi sono distrutto i due conti a 10.000 euro oppure Ale ma quello bravo ma non c'è più quello bravo ecco perché poi metti insieme i puntini e dici che cavolo ragazzi è una roba è una roba incredibile prima non c'erano i forum c'era il detto c'è quello là che ci scuffia c'è il tocco magico perché c'ha le dritti hanno le dritti questo è un racconto sempre quando stavamo a costruire la sede qua in Svizzera arrivavano arrivavano le ditte e ditevamo montare una cosa con le montanate a un certo punto arriva uno e fa voi fate voi vi occupate parlate di investimenti ah tu sei uno sveglio subito non l'avrei mai detto che parliamo di investimenti vabbè dice no perché io con le cripto di qua e poi c'ho c'ho uno quando te stanno per dire la cazzata cambiano su abbassano la voce come stavamo noi perché c'ho uno che che cazzo stai a dire te fossi no ma chi è no è uno che te sì te che no 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 è uno ai piani ai piani alti ma ai piani alti di che no mi ha detto no adesso non posso dire il nome della banca è una 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 banca qualsiasi banca dico vabbè no è uno che sta ai piani alti che su ma su che cosa fa l'impiegato cioè l'ufficio piani un po' più alti ma secondo te se veramente prevede cioè il tocco magico ti veniva da a dare le dritte a te abbi pazienza no perché mi ha fatto comprare il foto ah il foto guarda un po' l'ha fatto comprare il foto scommetto che c'è il 3% di caricamento dei costi eccetera e poi no perché poi mi dice che le cripe mi dà le dritte esatto 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 e poi ecco succede succede questo semitizzano magari il personaggio personaggi con passaparola quello gli ha dato il consiglio giusto ma è come veramente chi dice ma dareste mai tutti i vostri risparmi di una vita uno che ha fatto 6 al superanalotto per dirgli senti mi fai fare anche a me io anche su queste sulle dritte mi ricordo ero ai primi ero veramente un ragazzino all'inizio con Fineco mi chiama questa questa persona che tra l'altro era l'epoca dei titoli azionari biotech eccetera oh sto qua effettivamente avevo messo 70.000 e si era ritrovato mezzo milione e lui mi fa guarda io voglio arrivare io vado a incontrarlo e un bancario questo bancario vado a trovarlo in banca nel suo ufficio in banca quindi dice guarda io la mia strategia è arrivare a un milione e poi mettere tutto in obbligazioni bancarie della mia banca così almeno e lì ho capito che stavo parlando con i miei cille cioè uno non sa veramente niente in pratica ve la faccio breve sto qua mi aveva contattato e ho detto ma fai azione biotech e tutto che te frega e allora io adesso ho fatto un bel per 5 per 6 quello che è mi basta un ultimo per 2 però sai che c'è io adesso ho 34 anni voglio andare un po' più veloce non è che c'è la leva in fine eco perché adesso noi guarda io poi gli avevo parlato gli ho detto sì puoi fare la leva che io mentre gli parlavo dicevo ma pensa a questo che è stato così fortunato a fare un per 7 e io gli sto dicendo il modo per rimangiarsi tutto e anche perché alla fine mi saluta dicendo dai sei stato bravo mi hai spiegato bene eccetera eccetera dai te la voglio dire anche a te noi nel settore bancario insomma sai che abbiamo qualche informazione privilegiata ti faccio il nome Monte dei Paschi adesso è il momento ed era qualche anno era tipo quando anche Renzi diceva adesso ragazzi più in basso di così quindi e e e e e io mi ricordo poi non l'avevo più non l'avevo più visto insomma pagherei pagherei oggi per vedere come è andata perché uno che ti viene a dire spiegami la leva perché sono dentro col biotecnologico e voglio iniziare a piramidare una posizione su Monte dei Paschi per me questo si è fatto fuori tutto per me si è fatto fuori tutto tanto non non sai quando sai che prima o poi succederà cioè non è una roba di ma lì siamo in grado di prevederlo il futuro perché sai che non sai effettivamente quando ma prima o poi succede è come quando non ne parliamo la morte però non sappiamo sappiamo che prima o poi tutti quanti facciamo quella fine però non sappiamo quando che è anche il bello no di 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 tutto purtroppo purtroppo è così ragazzi non non se ne non se ne esce da da questo e qui poi mi ricollego anche con l'attività che è importante della consulenza finanziaria i consulenti finanziari indipendenti perché tanti vengono beh ormai c'è questa cosa fai tutto fai da te faccio tutto da solo senza studiare perché ma i corsi costano i corsi costano perché ti spiego tutto c'è un filologico dalla zera bello strutturato c'è l'assistenza tutto certo che costa le persone dico non solo voglio far da soli voglio far da soli gratis quindi un po' di qua un po' di là un po' su un po' giù mi mettono pensano con quattro video con quattro articoli di aver capito tutto mi hanno capito soltanto lo 0,1% magari è anche male e poi fanno fanno un bagno fanno un bagno un bagno di sangue quando è successo di luna e tutto quanto io neanche io ho dovuto telefonare a Danilo a dire Dani ma stiamo stiamo sereni con gli investimenti perché sapevo già per certo che nessun cliente dell'SCHF aveva luna in portafoglio come non era luna perlomeno consigliata chi ce l'aveva era stato sconsigliato esatto tra l'altro lì sono raccomandazioni ufficiali depositate anche vengono depositate nella consob nei registri della consob le raccomandazioni dobbiamo ottenere registro loro ce le possono chiedere esatto tutta roba ufficiale ma nessuno dei consulenti aveva messo terra luna nei portafogli ma come poteva fallire qualsiasi altra azienda o cripto o certificato sappiamo per certo che questo non ce la mettono perché strutturiamo tutto il processo di investimento per essere diversificato senza rischi specifici in linea con la tolleranza al rischio del cliente la comprensione dei mercati del cliente e gli obiettivi e gli orizzonti temporali del cliente io non ho neanche mezza telefonata ho telefonato in questi giorni stavo telefonando a un amico che fa il consulente per per una per la società finanziaria non indipendente gli telefonano per una cosa non mi ricordo neanche gli telefonano così neanche ci avevo pensato gli telefonano mi risponde chi è che ha fatto gli telefonano risponde a un certo punto mi schiava aspetta ti richiamo io prossimi giorni che adesso l'ufficio è rovente è successo un macello con le cripto se carichi se riempi i portafogli i clienti con le criptovalute tra queste c'è anche terra luna che è fallita è rovente sì questo qua si è abrasato tutti i clienti ma per forza perché le persone poi non sono sceme nel senso a parte poi purtroppo il danno è fatto non si può tornare indietro però tu così fai dei danni tu non sai ma non potevo saperlo certo nessuno poteva saperlo ma quando ce l'hai messo in portafoglio dovevi già sapere che prima o poi sarebbe successo non sapevi quando ma dovevi sapere che sarebbe successo è quello è quello il punto dall'altra parte i consulenti nostri sono preparati per e seguo tutte le procedure questa roba non ci deve stare non ci deve stare neanche il cippino perché poi c'è il cippino è il cippino qua il cippino è là ti riempi il portafoglio dei cippini fai tutti i cippini e ti diventa il portafoglio che è un secchio dell'immondizia perché se tu metti il cippino nell'immondizia il cippino perché poi il cippino si mette nelle cose super rischiose ti fai un bel secchio dell'immondizia ma un secchio dell'immondizia rimane un secchio dell'immondizia abbiate le pazienze ok quindi dovete stare bisogna stare attenti e è per questo che quando io parlo con i consulenti dico la notte io ho fatto a me non mi interessa volete fare i fenomeni se volete andare a fare i fenomeni fuori dall'azienda nostra i fenomeni dell'azienda nostra della finanza i maghi non li vogliamo io voglio solo che la sera quando vado a dormire sto sereno tranquillo che qualsiasi cosa succede domani sui mercati finanziati che fallisca Terra Luna o fallisca Amazon i clienti stanno a posto non hanno rischi specifici se vi sta bene bene se volete fare i fenomeni andate a fare i fenomeni dall'altra parte è pieno di aziende che vuole i fenomeni della finanza da noi no ciò mattina da Danilo sta qua a fare la domenica la colazione finanziaria e non state al telefono con 100 clienti incazzati neri avvelenati perché Terra Luna è fallita o perché il mercato azionario ha perso il 10% perché nessuno sta avvelenato perché è stato pianificato e tutto quanto quindi è questa la differenza anche dal fare da solo che uno pasticcia fa un casino a destra e a sinistra e poi quando si mette nei casini è come quando uno dice ma vabbè la macchina me la faccio mettere a posto dall'amico che non me fa pagare me lo fa gratis poi per metterglielo a posto gli fa più danni che se l'avesse portato da un professionista in Italia me lo fa mio cugino tutti abbiamo il cugino che fa tutto poi però fa i danni e dobbiamo andare da un professionista a mettere a posto il danno che avevamo prima più danni che ha fatto chi ce l'ha messo a posto gratis ci mettiamo molto più tempo e spendiamo molti più soldi quindi ecco perché vi diciamo ragazzi va bene l'informazione in generale stiamo qui parliamo e cerchiamo di mandarvi messaggi più salutari possibili poi però a un certo punto il conto è chiacchierare spiegarvi dei concetti comunque importanti ma quando si tratta poi dei vostri risparmi i vostri soldi il vostro patrimonio che vi siete messi da parte non dall'oggi al domani vi siete messi da parte lavorando o se ve l'avete ereditato qualcuno se l'ha messo da parte lavorando facendo un sacco di sacrifici eccetera ma perché dovete brasarlo dall'oggi al domani per investirlo con tanta superficialità no perché me l'ha detto l'ho letto da quello però quello mi sembra bravo ma c'ha 16 anni ma come fai a uno che ha 16 anni cavo di risparmi te ne ha uno che ancora va a scuola per dire per estremizzare non lo so se c'è qualcuno che va a scuola e parla di finanza però per fare un esempio è importante questo quindi anche qui mi ricollego a questo discorso se avete dei patrimoni investiti non sapete come li avete investiti avete fatto da soli vi siete affidati a banche poste assicurazioni a chi vi pare vi metto il link in chat lo trovate in descrizione per l'analisi del portafoglio e se invece volete fare i consulenti finanziari indipendenti il 4 luglio è in partenza la nostra masterclass la che edizione è Dani? la sesta la settima l'ottava settima settima la settima edizione per diventare consulente finanziario indipendente in sei mesi vi prepariamo non diventare fenomeni della finanza quelli li lasciamo affatti questi danni qua ma per diventare dei consulenti finanziari indipendenti veri che pianificano veramente eliminano rischi specifici aiutano veramente le persone parte il 4 luglio finisce a dicembre e tre mesi vi prepariamo per superare l'esame poi vi spieghiamo tutte le cose che serve sapere per poter iniziare a fare bene questa professione al punto di vista finanziario previdenziale assicurativo successorio e c'è anche una parte invece di comunicazione la parte un po' commerciale perché bisogna saper fare anche quella altrimenti sarete dei super consulenti ma disoccupati e ovviamente non va non va bene quindi diciamo possiamo ampiamente dire che è il percorso più completo che c'è in Italia sulla sulla consulenza finanziaria indipendente dalla alla zera vi metto il link anche qui in chat lo date in descrizione potete prenotare una call con uno dei tutor che vi spiega tutto vi fa una sorta di di selezione di colloquio iniziale poi se volete partecipare vi scrivete iniziate inizierà a luglio finirà a dicembre e prima vi scrivete meno pagate e prima iniziate a studiare questo è Dani volevi giungere poi ho preso ho tirannato tutto no no c'era questa prima quando parlavamo dei titoli no e anche Amazon prima o poi fallirà tutti i titoli falliranno è arrivato questo messaggio anche il mercato prima o poi fallirà che è giusto io la penso anche io così prima o poi fallirà anche il mercato però qua non è un nostro problema perché perché quando fallirà il mercato non ci saremo più probabilmente quindi non sarà il nostro problema che fallirà il mercato cioè sarà una conseguenza mettiamola così il fatto che il mercato fallirà sarà una conseguenza ancora più grave dell'umanità ok quando fallirà quando fallirà Amazon spero che io i miei figli i miei nipoti stiano bene io magari sarò morto non lo so però però i miei nipoti magari staranno staranno bene non sarà successo niente fallito blockbuster non è che io ho accusato il colpo voglio dire per la mia salute per la mia vita se il mercato dovesse fallire ma allora sarebbe una conseguenza qualcosa di più grave ok quindi giusto giusto anche il mercato prima fallirà certo però è come dire no non investo perché il mondo prima o poi perché il sole prima o poi si spegnerà esatto non è 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 questo qui è il problema questo qui è il problema vi riprendevo proprio quello quello che vi dicevo sempre su sempre sempre su terra luna addirittura hanno preso hanno messo dei numeri nazionali per aiutare le persone qua un mio ex collega ha tentato di suicidarsi questo ho perso più di 450 mila dollari non posso non posso pagare la banca ho perso la casa presto perderò la casa diventerò senza casa mi voglio suicidare eccetera cioè questo è grave questo qui è grave cioè se c'è un progetto tu finisci in mezzo in mezzo alla strada queste sono cose sono cose gravi che non devono in alcun modo in alcun modo succedere cioè nella tutti i nostri i nostri patrimoni personali i patrimoni di tutti i clienti dell'SCF non c'hanno questi rischi questi rischi qua non esiste perché è pianificato tutto e diversificato cioè le persone che devono se ti servono i soldi per pagare le bollette per pagare il mutuo non puoi investire nessuno ve li farà investire tutti cioè ci vuole la liquidità per andare avanti per sopravvivere per fronte alle emergenze agli imprevisti e tutto e poi costruire gli investimenti e tutto come spieghiamo da anni in base agli obiettivi futuri non mi ricordo c'era il commento l'avevo ripreso questi temi qui perché c'era un commento mi ricordo di chi adesso mi sfugge dice no ragazzi vi stimo ma non sono d'accordo sulle criptovalute la tecnologia rivoluzione tecnologica attenzione qui non stiamo parlando di le criptovalute oggi la maggior parte è solo pura speculazione eccoli i risultati li state vedendo adesso cioè le criptovalute adesso sono questo sono questo perché pensate quanta gente quanta gente è stata coinvolta secondo voi sapeva la tecnologia cioè queste persone qua questo che ha preso 450 mila euro in prestito per investirli tutti quanti sull'una ma secondo voi sapeva che voleva di stable coin algoritmi con la reddita garantita collateralizzata con bitcoin ma secondo voi lo sapevano cioè se uno lo sapeva dice ok vabbè massimo ci metto 500 euro proprio devo devo fare devo fare qualcosa cioè non è stiamo parlando purtroppo le criptovalute mettono insieme tecnologia criptografia e investimento se la finanza tradizionale è complessa qui è complessa all'ennesima potenza se le persone non capiscono neanche la differenza tra bot btp e rischio specifico qua è niente è un grandissimo centro scommesse dove la gente però ci mette un sacco di soldi e poi succede questo quindi non è la tecnologia va bene tutti i protocolli nuovi innovativi eccetera però se tu ci metti prendi mezzo milione in prestito e li metti qua dentro qua dentro con qualsiasi singola cripto che scegliene una a caso anche bitcoin siete matti da lega cioè quello è il problema è però quello che l'ha fatto nel 2008 o adesso nel 2011 adesso è diventato milionario sì vabbè è anche ripeto sempre la persona che ha fatto 6 al superenalotto nessuno prende in prestito mezzo milione per giocarsi i numeri al superenalotto o fassi di giocata chi ha fatto 6 al superenalotto la settimana precedente perché altrimenti sarebbe da rinchiude quindi ragazzi attenzione perché queste sono storie vere cioè questa questa è realtà che poi tutti quanti ci dimentichiamo ci dimentichiamo perché ah ma c'è quello che ha fatto perché domani andrete a cercare su youtube come fare un milione di euro in una settimana e quindi queste storie non le non le non le vedete purtroppo è è è importante questa cosa qui ok questo è incredibile quando parli di suicidio per un crollo finanziario cioè pensate quanto è e qua ti fai anche delle domande sull'importanza del lavoro che hai scelto del quando quando dico il nostro lavoro è aiutare le persone anche i nostri consulenti aiutarle la consulenza indipendente ti permette questo perché io non ho avuto un minimo dubbio da promotore finanziario a consulente indipendente perché è proprio quella la differenza cioè il mio lavoro oggi a 360 gradi è aiutare nelle mie possibilità ovviamente i nostri clienti e aiutarli cioè noi siamo pagati direttamente da loro noi dobbiamo fare il loro bene se loro capiscono questo beh ci pagheranno sempre più volentieri quindi è capisci proprio la definizione di servizio cioè poniamo un servizio per aiutare le persone che non succedano addirittura queste cose poi quando si parla di suicidi è una cosa incredibile però è così esatto se vai su Reddit che ormai è il forum finanziario più grande al mondo e scrivi Terra Luna e i messaggi che ti vengono fuori sono quelli non ce n'è uno ce ne sono ce ne sono avrei potuto aiutare in qualche modo no perché finché guadagnano il 20% di rendita di rendita non gli vuoi di niente siamo noi gli scemi che stai là voi vecchi dinosauri della finanza tradizionale che è la diversificazione no quella è da vecchi la diversificazione è quella la cosa cioè Warren Buffett ma Warren Buffett è vecchi ma che vuoi che ne capisca purtroppo qui si rientra sempre qui è psicologia ecco perché dico sempre ragazzi per fare i consulenti non dovete essere luminari della finanza no dovete essere semplicemente dovete imparare quelle regole fondamentali di buon senso ci vuole buon senso ci vuole e relazione col cliente è un lavoro di relazione non è un lavoro di fanta finanza cose strasciortiamo il Bund compriamo il future no quello è film quello è fantascienza è da tecnici che non battono poi il mercato ok il consulente è un altro lavoro è aiutare a parlare con le persone il rapporto con le persone chiamare il cliente e dire guarda il mercato perde il set è tutto a posto stai sereno sì sì tutto a posto questo vuol dire ok va bene purtroppo passa anche questo di messaggio il consulente deve essere il luminare della finanza devi uscire da Harvard no non devi uscire da Harvard per fare il consulente il consulente ci vuole buon senso perché i consulenti nostri i consulenti vostri sono appena iniziato appena iniziato non corno hanno fatto già meglio i fanta consulenti che i super fenomeni della finanza che stanno lì e traccheggiano comprano vendono fa short con future fondi super costosi eccetera prendete i portafogli fateveli analizzare fateveli analizzare li confrontate con il benchmark e vedete quello che viene fuori ok ecco questa è la cosa è la cosa importante secondo delle procedure fatte da un filo studi che le ha dettate strumenti efficienti costi tenuti tenuti al minimo eliminazione dei rischi specifici è qui che si costruisce la pianificazione finanziaria poi se uno si vuole vuole andare a a Las Vegas vabbè però andate andate a Las Vegas è meglio andare a Las Vegas a me uno sente è bello Las Vegas ti diverti vedi è un'esperienza non giocare dal computer a cliccare perché sennò è anche noioso uno diceva voglio voglio rodare 5.000 euro perché ho un milione 5.000 voglio rodare per divertirmi invece voglio andare a fare un viaggio a Las Vegas vai porti 5.000 contati vai là ti diverti vivi l'esperienza come se fai un viaggio noi non dobbiamo spendere niente però lo sai ci parti consapevole che vai lì per divertirti per fare un'esperienza per vedere lo spettacolo che offre Las Vegas rodare 5.000 euro poi torni a casa e ricominci a lavorare ok questo è importante Davide Dani iniziamo qua qualche domanda siamo siamo rientati lunghi due parole sulla diversificazione della liquidità senza investire nel franco svizzero come allora vado vado diretto no vado diretto no io non lo vedo cioè sì un po' di franco svizzero all'interno della diversificazione valutaria va bene però però ricordiamoci che comunque il mercato cioè secondo me è giusto di andare a investire la diversificazione valutaria deve essere sulla base della capitalizzazione della stessa valuta del mercato della stessa valuta la svizzera per carità va bene il franco svizzero sappiamo che ha delle buone anche proprietà delle buone caratteristiche però da qua a dire voglio investire anche solo il 50% nella mia liquidità in franco svizzero a me non fa impazzire anche perché in genere io consiglio sempre di andare a investire se io investo in una moneta per assurdo devo poi investire all'interno del mercato di quella moneta quindi chi mi dice io ho messo in dollari pirla cioè nel senso scusate nel senso sì va bene mettere in dollari ma compra poi obbligazioni in dollari azioni in dollari cioè fai investimenti se mai quella valuta perché se no non hai investito in dollari hai cambiato la valuta e non ti dà un tasso di interesse ok quindi quindi faccio questo primo passaggio e dire ok quanto investiresti nel mercato svizzero ah no ma nel mercato svizzero investirei non tantissimo non so il 5% che già è tanto perché a livello di capitalizzazione mondiale non lo so ma la svizzera sarà una piccola percentuale e allora il cliente dice o l'investitore dice no allora sai cosa faccio investo nel mercato americano ma lo copro lo edgio sul franco svizzero e lì ragazzi iniziamo ad avere dei costi quindi ha senso avere dei costi sì perché io il dollaro lo vedo male però lì entriamo non lo so non so adesso Davide ma in generale magari anche in temi complottisti no perché secondo me la valuta farà il dollaro l'euro non ci ho mai creduto ecco non bisogna crederci bisogna bisogna attenersi a quello che è quello che vediamo quindi no tendenzialmente io ecco il consiglio che do è una diversificazione valutaria sulle valute ovviamente più più importanti e in genere sulla base della capitalizzazione mondiale dei mercati parlo di euro dollaro yen sterlina se proprio franco svizzero va bene ma basta cioè non cominciare a diversificare con la lira turca il real brasiliano no perché il real così almeno real brasiliano diversifico no quella è carta straccia che stampa si sbaluta il 20% all'anno ma è sceso tanto allora magari no no perché c'è la banca lì che ti stampa come se non ci fosse un domani cioè quelli che ce l'hanno cercano di andare le valute le valute quante volte le hai detto anche te Alessandro forse è il mercato più difficile dove c'è ci sono gli squali quindi non lasciamo perdere si muovono su le azioni le azioni si muovono sulle aspettative di utili giusto poi guardano il debito però sostanzialmente è su stazione ci guadagno o no e va bene il mercato valutario si muove sulle aspettative della crescita economica di quel mercato si muove sull'aspettativa delle cambio dei tassi si muove sull'aspettativa delle cambio valute di tutte le multinazionali presenti in quell'ecosistema si muove sulla base dei movimenti delle banche centrali che manipolano lo sappiamo no devono manipolare le banche centrali per tenere il cambio oppure creare competitività cioè immaginate quante quante aspettative si muove un cambio valutario e tra l'altro è sempre un cambio valutario quindi queste caratteristiche sono per due perché devono guardare sia un mercato che il rispettivo la rispettiva controparte quindi vi prego non cercate di ah no ma adesso il dollaro salirà scenderà bella bella domanda è chiaro che oggi con un dollaro così forte boh magari qualche obbligazionario eggiato ma ma si va bene va bene però il dollaro lo possiamo il cambio euro dollaro lo possiamo vedere a 0,9 ma certo ma è da tanti anni che non lo fa e quindi non cioè assolutamente sì non ci sarebbe niente di sconvolgente o di clamoroso esatto esatto allora Dani visto che ci avviciniamo alla chiusura un po' di facciamo anche vedere un po' un giro non l'abbiamo ancora fatto vedere il mercato azionario così almeno facciamo anche il punto della situazione un po' quello che è quello che è quello che è successo settimana abbastanza abbastanza ultimi dieci giorni abbastanza negativi è stato un rimbalzo nelle ultime due sedute giovedì e venerdì qui parliamo di azionario globale che ha toccato un drawdown massimo del dieci del dieci per cento l'SV qua siamo sull'SVDA che non vedeva da da diverso così stiamo un attimo scusate ragazzi ecco insomma era iniziamo a essere dal covid dalla scesa violenta del covid che l'azionario globale non aveva non aveva un drawdown un drawdown del dieci per cento poi storicamente li ha avuti anche ovviamente più più grandi quando andiamo dal venticinque al quaranta per cento lì stiamo un po' verso i massimi verso i massimi drawdown questo del mercato azionario però ecco beneficio di avere l'azionario e l'azionario globale è proprio proprio questo in un momento in cui ad esempio il Nasdaq è stato a perdere oltre il quanti quasi il trenta per cento dai dai massimi che aveva fatto l'anno scorso avere Nasdaq è settoriale tecnologico ha un peso un impatto forte il tecnologico contro il Nasdaq ecco in un momento in cui il Nasdaq ha avuto un drawdown che è stato praticamente lo stesso del drawdown durante la diversificazione globale aiuta a smorzare queste situazioni attenzione al Nasdaq perché uno dice vabbè il Nasdaq è tutto e tutto quanto ma ti pare che il Nasdaq che il Nasdaq fallisce e tutto cioè non fallisce proprio il Nasdaq però attenzione che ad esempio nel 2000 è un mercato che ha perso il 76% e soprattutto dal 2000 al 2014 sono passati 14 anni prima di veder recuperato il 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 drawdown quindi poi adesso è un mercato chiaramente molto maturo rispetto alla bolla tech del 2000 e soprattutto le aziende tecnologiche macchine molti più utili però attenzione che può succedere qualsiasi cosa magari ecco da utilizzarlo come riferimento quando uno adesso va a prendere singoli settori singoli temi di investimento le auto elettriche sono il futuro probabilmente sì però attenzione che magari il settore dell'auto elettrica inizia ad essere anche un po' un pelo più un pelo più maturo non è detto che possa succedere una roba di questo tipo quindi 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 occhio e non so Dani se vuoi far vedere anche qualcosa qualcos'altro qualcos'altro due parole proprio al volo sul 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 gold che è arrivato a 1800 1800 dollari dopo aver fatto dopo aver fatto dei massimi in poco sopra poco sopra i 2000 e niente questo sì sull'oro in realtà c'è poco da dire sta vivendo questa lateralizzazione dei prezzi ormai da un bel po' e quei massimi precedenti intorno ai 2100 punti li ha toccati giusto durante la guerra per poi in realtà ritornare indietro quindi in realtà l'oro non ci sta dando grandi informazioni chiare che dopo un periodo laterale così così importante sarà interessante capire la direzione che prenderà quello potrà darci un'informazione abbastanza interessante anche su proprio due due contate sulla sul sull'obbligazionario qui siamo sull'international aggregate bond quindi azionario internazionale aggregate quindi sia titoli di stato che corporate e qui vediamo è stato dal 2016 ma possiamo dirlo tranquillamente anche negli ultimi 50 anni credo il drawdown più grande del mercato obbligazionario in generale e niente insomma è una fase ne parlavamo nel report dei mercati che abbiamo fatto ai clienti dell'SCF la settimana scorsa è una fase di mercato dove negli ultimi mesi è praticamente sceso tutto l'obbligazionario l'oro è rimasto lì è stabilizzato però sono fasi di mercato che poi ci stanno no Dani? sì attenzione perché in realtà questa settimana è successa una cosa a mio modo di vedere molto interessante che aspettavo da mesi cioè la decorrelazione tra obbligazionario e azionario cosa abbiamo visto? che quando l'azionario è crollato abbiamo avuto un rimbalzo in realtà guarda qua anche da questo grafico si vede guardate inizio settimana il mercato è crollato e abbiamo avuto che cosa? il rimbalzo dell'obbligazionario venerdì mercato azionario in controtendenza ha fatto il rimbalzo insomma abbastanza importante Nasdaq che è chiuso quasi al 4% le obbligazioni che sono venute giù e questo per me è molto importante Alio lo sto dicendo da un po' di settimane no? lo sto dicendo da non è giornaliero? aspetta ecco non me lo mette niente questo è interessante perché lo sto dicendo da un po' e secondo me sarà questo la cosa che mi dà più interesse nel 2022 cioè stanno bleffando le banche centrali che dicono aumento i tassi e menti i tassi ma non ce la faranno e quindi ci sarà un rimbalzo dell'obbligazionario a fronte di una vera magari recessione o crisi economica che farà scendere davvero l'azionario perché oggi non è sceso davvero quando mi fai vedere un meno 10 sull'azionario globale io non la vivo come una crisi azionaria io sto parlando di prezzi un po' più interessanti soprattutto sul Nasdaq eccetera prezzi un po' più interessanti ma mi spiace dirlo agli amici a casa ma non è una crisi azionaria è un modo di vedere questa è una crisi obbligazionaria che bisogna capire se lo sarà davvero perché se invece abbiamo una crisi azionaria allora questa decorrelazione per forza di cose si attiverà e quindi le banche centrali diranno ok sai che c'è ovviamente se c'è una crisi azionaria vuol dire che probabilmente ci sarà una crisi della domanda con una crisi della domanda probabilmente l'inflazione non sarà più il problema numero uno e quindi le banche centrali anzi diranno ok sai che c'è probabilmente questa inflazione sarà combattuta da una crisi della domanda che porterà a una recessione potenziale e quindi sapete che c'è ok sto giro magari i tassi non li alzo se dovessero fare una roba del genere vediamo le obbligazioni che rimbalzano di 4-5 punti percentuali ovviamente in base alla loro duration questo sarà interessante e per per la prima volta da quest'anno adesso potrei sbagliare ma ho visto effettivamente una decorrelazione importante da inizio anno abbiamo visto azionario e obbligazionario scendere a pie pari questa settimana ho notato proprio questo mi dicevo oh finalmente c'è il mercato che si sta iniziando a dire ok c'è la crisi c'è la crisi azionaria oppure le banche centrali continueranno ad alzare i tassi e questo è interessante per me esatto esatto va bene va bene ragazzi non so se c'è qualche se nel frattempo hai visto qualche qualche altra domanda Dani noi ovviamente ce la siamo ce la siamo riportata due ore questa colazione finanziaria per me è diventata proprio un talk piacevole che va che scorre via stupendo la domenica mattina e niente non so se c'è qualche altra domanda Dani che volevi prendere vediamo no vedo tanti il bello è perché la chat adesso iniziano a dialogare c'è la domanda poi si rispondono tante domande sono state già risposte quindi alla fine vabbè ma che percentuali dedicate ad azioni singole nel vostro portafoglio dipende 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 da che obiettivo hanno le azioni singole dipende soprattutto l'abbiamo detto le azioni sono redditi diversi quindi sono compensabili quindi noi in genere le azioni le utilizziamo per andare a compensare minusvalenze proprio per questo concetto principale perché uno vuol fare le azioni perché voglio guadagnare di più ma le azioni sono rischio specifico e quindi se andiamo se andiamo a capire bene perché vorrei delle azioni in portafoglio lo capiamo bene con la live di oggi se la riguardiamo se uno guarda bene la live di oggi non dovrebbe volere azioni in portafoglio ok a meno che non ha delle minusvalenze e allora in quel caso qual è la percentuale di azioni singole nel vostro portafoglio dipende dalle minusvalenze che si hanno dal capitale che si ha dal grado di rischio che si ha quindi prima di tutto qual è la percentuale di azionario qual è il capitale che viene utilizzato quali sono le minusvalenze oggi già presenti e quelle potenziali cioè dei titoli già in drawdown è un'analisi un pochettino complicata per rispondere a questa domanda non c'è la percentuale precisa il 10% per tutti no no esatto e c'era anche parliamo in ottica di investimento perché ve lo ricordo perché a molti sfuggio ancora investimento per definizione non deve richiedervi tempo perché se voi state io investo se voi state lì per gestire gli investimenti ci passate un'ora al giorno un'ora al giorno che sarà mai un'ora al giorno sto lì mi piace guardo così faccio intanto quell'ora gli dedicate non vi fa guadagnare di più intanto perché altrimenti lavorereste in banca non potete pensare che con un'ora al giorno siete più bravi degli analisti di JP Morgan che hanno lavorato hanno studiato a Oxford perché lo fanno tutto il giorno dalla mattina alla sera con gli strumenti migliori dei vostri poi se pensate di esserlo i vostri ma non saranno certo loro un'ora al giorno per 365 giorni sono 365 ore che gli avete dedicato 365 ore se il vostro quanto è il valore della vostra della vostra ora se lavorata 50 euro 100 euro non lo so facciamo conti pari sono 100 euro 100 euro per 365 ore fate quanto vi ha costato guardare quegli investimenti che non vi ha portato più valore perché lungo termine state lì guardate che guardate niente ok quindi attenzione che l'investimento per definizione quello lì va tolto al rendimento se voi state lì e li guardate immaginate la persona che investe fa la pianificazione investe poi monitora quando ce n'è bisogno viene chiamato dal consulente quando c'è bisogno di fare le cose è la persona che fa la stessa identica cosa ma poi sta tutti i giorni guarda la preapertura dei mercati la pausa pranzo la chiusura si guarda tutte le singole azioni sovra sposta compra e ci dedica un'ora al giorno alla fine dell'anno magari anche se hanno avuto lo stesso rendimento chi è che ha guadagnato di più quello che si è fatto seguire o ha fatto solo un ribilanciamento due ribilanciamenti quello che è o quello che ha fatto la stessa cosa buttandoci una marea di tempo ovviamente a pari del rendimento quello che è l'altro chiaramente quello che gli ha dedicato meno tempo che dedicare meno tempo vuol dire trascurare se io so che da averci l'azionario globale che è super diversificato è inutile che lo guardo tutti i giorni non lo guardo mai ma perché non lo guardo sta lì lo so che non lo devo anzi ma non lo guardo è meglio è quello il messaggio poi chiaramente se fate i trader è un altro lavoro se fate i trader è un lavoro il trader dovete star lì però è il lavoro ma se uno voi ci seguite la maggior parte delle persone sono liberi professionisti manager dirigenti imprenditori ma se invece guardate al mercato la preapertura del mercato americano vi dedicate a far bene il vostro lavoro quello retta lì ma è più renditizio aver guardato il mercato o aver fatto bene il lavoro vostro ragazzi vi portate a casa fate meglio il lavoro vostro vi portate a casa più soldi che poi potete investire la ruota gira avanti quello è il messaggio io se guardo l'azionario globale non lo sposto non lo muovo non è inutile lo guardo poi si vabbè prima andando a letto una botta così per vedere chi ha fatto chi ha fatto l'azionario globale va bene però non è che lo guardo perché non sposta niente anche Danilo non è che sta là perché così dà consigli migliori no devi guardare per dare il consiglio migliore devi vedere se è cambiata la situazione personale della persona cioè hai cambiato hai cambiato obiettivi hai cambiato lavoro hai vinto il superenalotto ti è cambiato qualcosa a livello tuo personale no e allora il portafoglio sta bene eh ma io ho cambiato l'obiettivo adesso ho bisogno della liquidità che tra un anno voglio comprare a casa fermi tutti l'azionario via fuori ti mette tutto liquido oh poi da valutare non è cambiato il mercato sono cambiate le esigenze della singola persona ecco perché si chiama finanza personale perché è personale noi non la chiamiamo finanza generica esigenze mie sono diverse dalle esigenze di Danilo sono diverse dalle esigenze di tutte e 400 le persone che stanno collegate questa mattina alla collazione siamo tutti diversi ecco anche perché cercare dei consigli generici non serve a niente anche lì ma che mi consigliate qualche percentuale non serve a niente è personale ma io non voglio pagare un consulente e vabbè allora è meglio pagare un consulente che ti pianifica hai fatto tutto bene o fa le cose a casa tanto poi alla fine ci ritorni al consulente quindi uno prima inizia e meglio e meglio come sempre consulente consulente o consulenza che non paghi non sai quanto ti costa ed è incredibile come in generale siamo bravissimi al nostro lavoro perché io dico sempre chi è riuscito a guadagnarsi a mettersi da parte mezzo milione un milione centomila euro dieci milioni quello che è un capitale un patrimonio deve aver fatto per forza bene il suo lavoro siamo bravissimi nel nostro lavoro perché altrimenti non ci saremmo costruiti il nostro patrimonio ma poi quando si tratta di investirlo è come se ce l'avessero regalati quei soldi come sei anni di vita dedicati a a lavorare con tanti sforzi tanti sacrifici tanti rinunce e così li gettiamo alle ortighe diciamo ma sì adesso adesso però in best ho letto il video di questo youtuber che mi sembra bravo ha 17 anni non ha mai bisogno è minorenne però mi sembra bravo ha detto una cosa interessante allora ci metto attenzione ragazzi oppure no ma l'ho letto in un articolo sponsorizzato su wikipedia però almeno è gratis attenzione anche lì occhio perché fatto il danno poi non si torna indietro e lì ci stanno un conto se dobbiamo la partita secondo me vince secondo me vince il Milan secondo me vince l'Inter vabbè state lì chiacchiericcio non porta conseguenze a parte qualche presa in giro c'è azzeccato oppure no se ci mette dei soldi vostri lì ci sono conseguenze e allora volete farlo così in maniera superficiale oppure in maniera seria occhio a questo mi raccomando che è importante quanto devo per il mio budget quanto devo investire per la mia investire mettere come spese per la mia auto il 5% l'avevo letto prima ancora all'inizio e pensa a quella domanda non esiste la domanda dipende magari uno ha la passione per le macchine e allora anche il 20% non è sbagliarsi come dice guarda Nilo il mio obiettivo è mettere il 25% del mio del mio reddito per la macchina è la mia passione guarda io piuttosto vivo in un monolocale ma la macchina ci sono no quelle persone è sbagliato ma chi lo dice no smettiamola di di pensare con la nostra testa anche un'altra cosa che insegniamo spesso ai nostri ai nostri consulenti no ragazzi quando avete davanti un cliente non abbiate pregiudizi vostri cioè anch'io all'inizio ero un po' così io dicevo ma sì ma che te frega di questa cosa tu investi in questo modo perché è molto più importante quest'altra cosa e il cliente ogni tanto mi guardava e dice ma come per dire ma che cavolo vuoi e quindi tu devi iniziare a non giudicare a dire ok io non tante volte riesco da un appuntamento e dico ma io non farai mai così o però magari sbaglio io cioè smetterlo di avere ok questo è il tuo obiettivo guarda che però a spendere così tanto in questa cosa potresti non avere poi budget per questo questo quest'altro e c'è chi ti dice sì sì ma a me di questo questo quest'altro non mi interessa ho già pianificato ah perfetto ottimo via è chiaro che altri mesi dicono ah no certo no beh allora aspetta un altro quindi l'importante è fare il budget ok se poi ti esce il budget da 130% rispetto a quello che guadagni e allora fallisci ok quindi esatto ci stanno alcune cose dove c'è un perimetro di dire sì guarda se lo preferisci se preferisci più soldi ti piacciono le macchine o ti piacciono le motociclette o le case non lo so va bene ci sono dei perimetri dove ti puoi muovere se vengo da te Dani ti dico guarda però io voglio fare i fantamilioni in una settimana spero che non mi assecondi ecco no però quello si va a calcolare ok per l'auto ok perfetto 30% per i tuoi figli oh boll 20 ok per questo va al 10 e per la casa al 40 eh sei già fuori ah cacchio è vero però è quello che possiamo aiutare no non dire no guarda che devi fare il 5 no quelle cose sono tante volte si leggono sui libri no che però non ha senso perché dipende da in che periodo della vita sei eh quali sono le tue passioni quindi tante cose che leggiamo anche sui libri di finanza personale eh sono oggettivamente sbagliate sì possono essere una media ma anche io sto bene a 20 gradi ma se mi metti la testa a 100 e i piedi a 0 no muoio ok ma mediamente ho capito no quindi tante volte sì la media si spende il 5% per l'auto sì però veramente danno poco valore no un libro del genere un'informazione del genere non mi serve la macchina dove vivi magari vivi a Milano in centro a Milano che non puoi neanche girare non ci sono i parcheggi è un casino eppure servita benissimo dai mezzi dici ma sai che c'è prenditi il monopatino non ti interessa l'auto non lo so eh sto facendo degli esempi però pensate quanto è importante poi personalizzare si chiama lo diciamo sempre si chiama finanza personale perché deve essere personalizzata quindi c'è chi cerca di standardizzarla ma eh alla fine toglie valore no esatto esattamente va bene va bene eh abbiamo risposto a tutti c'è più o meno a tutti tutti di sicuro no adesso non esagerare eh non lo so diceva sopra ma non la vedo una volta davvero una volta faremo una live di domande e risposte ok due ore di domande e risposte solo domande e risposte esatto 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 tra l'altro abbiamo avuto un un'idea geniale fare là per questo qui i milanesi e dintorni l'apprezzeranno tanta tantissimo una colazione finanziaria eh infrasettimanale eh lavorativa praticamente quindi ci pre-lavorativa pre-lavorativa come iniziare la giornata nel modo giusto esatto esatto mezz'oretta in sede eh cornetto cappuccino mezz'ora di finanza e poi tutti tutti al lavoro mattina presto alle sette e poi si va si va a lavorare si va mi avevamo pensato di far questo appuntamento settimanale adesso la mettiamo la mettiamo in piedi la mettiamo in piedi iniziamo iniziamo a breve quindi anche lì i milanesi potranno venirci a trovare la mattina adesso vediamo il giorno però una volta a settimana a fare colazione insieme insieme a noi toccherà mettere in biglietti Dani perché se no cioè se no ci invadono la sede diventate diventate ma finiamo sui giornali va bene ok dai a questo punto ragazzi siamo fatti la solida bella chiacchierata piacevole e come sempre mi sono mi sono divertito ho passato una bella una bella domenica mattina spero anche voi a questo punto dedicatevi voi alla vostra domenica fateci sapere anche che fate oggi pomeriggio anzi stamattina anche perché la mattina è lunga questa mattina oggi pomeriggio come investite la vostra domenica la vostra domenica e tu Dani io non so se posso dirlo è uno spoiler che uscirà però l'hai già spoilerato anche tu oggi tocca leggere tocca leggere oggi esatto 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 libro 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 hai parlato hai citato di libri è in uscita arriva 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 va bene va bene non diciamo non diciamo altro e bravo tu fai il libro io continuo a fare mille mila mille mila robe oggi c'è c'è il libro siamo indietro siamo indietro c'è il libro lo so c'è un altro c'è un'altra inaugurazione il 18 giugno nuova piattaforma di e-learning l'azienda di formazione si 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 sviluppa offerta formativa pazzesca tanti docenti nuovi tante materie nuove ci sarà veramente sarà veramente un mese intenso e stiamo preparando questa inaugurazione poi che alcuni di voi riceveranno l'invito e altri potranno seguirlo ovviamente in streaming il 18 giugno poi vi faremo vi faremo sapere i dettagli perché sarà una data veramente veramente molto importante è un altro grande progetto che sta che è in partenza questo qui frutto di un anno di lavoro un bel investimento tecnologico e niente quindi questo io ritorno 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 lì a finire di preparare questa questa inaugurazione e basta ragazzi a questo punto Dennis Dennis scrive che lavora lavoriamo benvenuto nel club noi sempre sempre sotto non mi ricordo una domenica che non ho lavorato sinceramente va bene dai grazie Dani ragazzi grazie a tutti noi ci vediamo domenica prossima sempre 8 e 30 puntuali con la colazione finanziaria solo per i veri appassionati di finanza salutare a tutti ciao ragazzi buona domenica